Signori salve, buonasera, spero state tutti quanti bene, spero che avete passato un buon giovedì, finalmente la settimana volge al termine, in realtà no, perché abbiamo ancora domani, quantomeno per quello che riguarda la programmazione live, ma io personalmente inizio ad essere parecchio cotto. Sono cotto perché nelle ultime settimane ho accumulato sempre più ritardo nel lavoro e adesso mi ritrovo a dover lavorare di notte dopo la live, tant'è che anche oggi mi dovrò fermare per fare cose cosose e spero però di non metterci troppo perché andare a dormire di nuovo alle 4 come ho fatto ieri, insomma non è che mi vada proprio a genio, ecco. Ehm, pertanto, prima di cominciare a fare qualsiasi altra cosa mi raccomando, like e iscrizione, grazie mille a tutti quanti coloro che l'hanno fatto, grazie a coloro che lo faranno, vi ricordo che queste live dedicate alla carriera di FC25 con lo Shrewsbury Town vengono anzitutto effettuate in live sul mio primo canale, ossia Tearless Raptor, dopodiché al termine diciamo che scompaiono e rimangono visibili soltanto per coloro che sono abbonati al canale. I non abbonati se vogliono rivedere la versione integrale uncut senza tagli dovranno aspettare poi due giorni per vederle su Tearless Live, il mio secondo canale. Per la versione invece editata sappiate che i video usciranno man mano, oggi quindi giovedì 26 è uscito il primissimo episodio e il secondo episodio dedicato alla seconda stagione che tra parentesi abbiamo concluso ieri, uscirà martedì della prossima settimana. Devo caricare i materiali a Marco altrimenti non ci può lavorare. Però sì, sarà un mesetto bello intenso, parlo di mesetto perché suppongo che sarà quella la durata della serie più o meno a livello di video, però sappiate che come live saremo sempre almeno una stagione avanti rispetto ai video. Tant'è che oggi è uscito per l'appunto il video dedicato alla season 1, noi oggi continueremo la season 3 che abbiamo iniziato ieri. Infatti la stagione 2 l'abbiamo giocata tra le live di lunedì e quella di ieri, abbiamo fatto mercato praticamente basandoci quasi solo sugli svincolati, abbiamo giocato un'ottima stagione in League 1, quindi la serie C inglese, tant'è che abbiamo anche concluso la stagione con due trofei. Ok, la Piston Cup, l'equivalente della Coppa Italia serie C, ma in Inghilterra, e abbiamo vinto anche la serie C, quindi la League 1 in sé per sé. Pertanto nella stagione 3 noi giocheremo in Championship e abbiamo anche già fatto il nostro esordio, abbiamo giocato letteralmente la prima partita dell'anno contro il Blackburn e da oggi andremo avanti, o meglio, e oggi andremo avanti con questa carriera. Mo, ci sarà del mercato da fare? No, e per un motivo ben specifico che vi faccio vedere tra letteralmente un secondo, fermi tutti, ah va che bello, no? Ehi! Ma fermo! Ma fa culo! Ti odio! La ragione è questa, abbiamo 0 euro di budget, letteralmente abbiamo speso ogni singolo centesimo, letteralmente ogni singolo centesimo, per poter fare mercato. 20 milioni, ragazzi, sono quelli, in generale, eh, delle spese. E poi credo che conti anche tipo, dov'è? Manutenzione stadio, ma perché devi rompere il cazzo a me con la manutenzione stadio? Ma scusa, ma fottiti! Vabbè, comunque. Io attualmente mi ritrovo con 0 euro di budget, ma ci ritroviamo con 0 euro di budget perché abbiamo fatto un buon mercato per la serie B inglese, spero. Nello specifico, cosa abbiamo fatto? Fermi tutti che andiamo a cercare l'elenco degli spostamenti. Allora, il nostro mercato splendore è stato il seguente. Abbiamo venduto Afonso Santos al Al Oroba per 650 mila, George Lloyd al Nike Breda per un milione e uno, Joey Young allo Stal Mielitz per 550 mila, Morgan Fini al Middlesbrough per 2 milioni e due, e Taylor Perry allo Swansea per un milione e otto. Con i soldi che abbiamo guadagnato da queste cessioni, cosa abbiamo fatto? Abbiamo anzitutto rinnovato quasi tutti i contratti, perché passando dalla Ligue 1 alla Championship, questa cosa è stata necessaria, altrimenti ai giocatori girava il cazzo. E poi abbiamo acquistato i seguenti giocatori. Punto primo, Gabriel Slonina dal Mallorca per 7 milioni e nove, più tipo il 17-20% sulla rivendita. Pagato un fottio, pagato forse troppo, ma almeno abbiamo un portiere giovane che può crescere. Poi, dovesse farmi schifo, ci metto due secondi a venderle e prendere un altro, eh? Però, intanto, abbiamo Slonina. Dopodiché, dopo di che, signori, tutti gli altri colpi sono stati fatti a zero, perché abbiamo preso Alex Matos, abbiamo preso Florian Grillic, che faranno rispettivamente il CC titolare e il braccetto di sinistra titolare. Poi, come nuova riserva di blocco prosciutto, abbiamo preso Jan Fiete Arp e abbiamo rimpolpato la difesa con l'acquisto di Konstantinas Shimkus. Ultima cosa da fare è stato mandare in prestito un giovane congolese molto, molto forte e, in sospeso, abbiamo questa trattativa con il Damac per la gestione di Moise Sissoko. Perché sto vendendo Moise Sissoko? Perché ho bisogno di quei soldini per, uno, rinnovare il contratto a Savin e, due, prendere i preparatori. Sto cedendo un giovane da primavera soltanto perché mi servono i soldi, altrimenti l'avrei anche tenuto. Detto questo, direi che ci siamo. La squadra con cui giocheremo la nostra terza annata al timone dello Shrewsbury è la seguente. Slonina in porta, difesa 3 con Wolfenden, Peters e Grillic. Centrocampo con Piotrowski e Matos. Esterni tutta fascia, Fulona a sinistra, Castro a destra. E poi, Tommaso Blocco prosciutto, capitano e unica punta, supportato da Patrick Nuama e Lio Kasseldein. È una buona squadra, è una buona formazione e, soprattutto, abbiamo diritto a... Non ho ben capito come funzionino qua ancora le sostituzioni, perché in alcune competizioni sono 9, in altre sono 7. Sono solo confuso e ora, teoricamente, abbiamo la IFL. Ma sapete che quasi, quasi, questa partita... Più che giocarla, la faccio fare alle mie riserve. Teoricamente, il Morcam è una squadra di serie D, di League 2. Non dovrebbero avere problemi le mie riserve, no? No? Poi, ben detto, Shipley. Poi prendiamo anche Duarte. Castrop lo sostituiamo, per il momento, con Mendy e Gile. Fuori Nuama, dentro i Dohu e su Leimanu. Sulemanu, Sulemanov. Poi Yann Fiete e Arp. Va bene. 3, 2, 1. Simula lento, giusto perché non voglio che mi scendano in campi titolari e teniamo d'occhio la partita. Come mai, tifosi Tirol? Sono di Bolzano. Sono di Bolzano. E quando ho ricominciato a seguire il calcio circa 5 anni fa, dopo essermene disinteressato per 7-8 anni, la prima squadra di cui sono andato a guardare l'andamento è stato proprio il Sule Tirol. Per pura curiosità. E quindi, niente, io tifo Sule Tirol perché, essendo di Bolzano, mi sono affezionato alla squadra della mia città. non da quando sono piccolo, perché quando ero piccolo io il Sule Tirol neanche esisteva come entità. Cioè a Bolzano c'era il Bolzano. Che però faceva cagare il cazzo. Tant'è che nessun Bolzanino ti fa Bolzano. Proprio per questa ragione. Ma il Sule Tirol è venuto fuori negli ultimi 5-6 anni. In realtà, cioè, sono già quasi 10 che fa delle buone stagioni in Serie C. Però sono gli ultimi 4-5 che veramente ha detto ok, famolo. E lo stanno facendo molto bene. Perché Hendrick e Yildiz nella copertina? Avendo dovuto fare queste miniature lunedì, quando ancora dovevo iniziare la prima stagione, pardon, la seconda stagione, i giocatori che avrei avuto in squadra non li potevo prevedere, no? E quindi ho messo gente a caso. Cioè per dire, nella miniatura di oggi sono Hendrick e Yildiz. Bravo! Jan Fiete Arp col suo primo gol in maglia a Schroesbury. In quella di domani ci sono Tommaso, Blocco, Prosciutto e Kylian Bappé. Insomma. No, no, no. È ancora diverso. Cioè, quando io sono nato, il Sule Tirol aveva un anno. Avevo appena preso un team scarsissimo, tipo, mezzo alle valli e... trasformato poi in Sule Tirol. Ma, guardate. Lasciamo perdere. Perché non hai venduto full on alla fine, se avete detto che l'avresti venduto? E perché... Allora, Hendrick e Yildiz, ho già parlato. Eh... Non prendete le cose troppo sul serio, regà, perché a volte, eh... noi youtuber facciamo le cose anche solo per arraffare qualche click in più. Non è questo il caso. Io l'ho fatto per me mare. Cioè, chi se ne frega. Poi, o se clicca in più persone, bene, ma non è quello il mio obiettivo. Il mio obiettivo è fare il coglionazzo. Ehm... Mentre per quello che riguarda full on, il mio discorso è stato avrebbe senso poi vendere full on per prendere un giocatore magari più scarso di full on stesso? No! Non tantissimo. Ecco, potremmo cercarlo noi adesso e vedere in caso di offerta buona per il belga se riusciamo a prendere qualcuno madonna che gol di Lund più o meno spendendo la stessa cifra. Ma di base... Cioè... Io... Uh, rigore. Piuttosto che cedere un giocatore tutto sommato non male per prendere qualcuno di più scarso... Guardate, mi tengo quello che ho già. Ma perché sono entrato? Vabbè, bella merda. Sì, comunque vediamo adesso. Più che altro mi dispiacerebbe anche rivoluzionare completamente la rosa. Cioè, va ben tutto ma cambiare tipo sette titolari su undici it's a bit much if you ask me. perché gli unici che rimarrebbero a quel punto sono Wolfenden Peters Piotrovski Kastrop Bloxham Kastadine Nuama in realtà sarebbero sette. Fulon sarebbe l'ottavo. Ho fatto meno cambi del previsto, eh. Buono. Cioè, mi piace il fatto che la squadra per il momento premesso rispetto a quella originale no, vabbè il gol del 2-2, no. rispetto a quella originale è molto diversa però i cambiamenti sono avvenuti col passare del tempo non tutti in una botta. Eh sbatta. Abbiamo cambiato tante riserve quest'anno, eh. Quello sì. Bravo. Non so che è stato di quella spallata ma bravo. Ah, rigori? Oh porca puttana. Oh porca puttana. Sì, allora. Vai, avanti. Posso scendere in campo? Sì. L'ha preso Sevin! Primo rigore preso da Sevin, ok. Entriamo in campo per i rigori del primissimo turno di Carabao. Abbiamo già parato il primo con Toby Sevin e passiamo avanti con Schipley. Ora Brown contro lo stesso Toby. Bravo No, Toby! Jan Fiete Arp ha segnato un gol e ha sbagliato un rigore durante i tempi regolamentari. Va incrociando in basso. Insacca il 2-1. Lund, l'autore della doppietta. Ah, bravo anche lui. 2-2. Ho paura, mamma. Ho paura. Ti prego, concedimi un po' di paura. Sì, Toby! Tobi! Un fenomeno Toby Sevin. McAdam lo prende Sevin, signore! Signore? Soltanto loro? O soltanto lui? Rigore decisivo! Vai, Do-Woo! Col destro! Incrociando i Do-Woo! Si passa al turno successivo! Evviva! Ho vinto dei rigori! Woo! Entrambe le cose, Reise, entrambe le cose. Ok, allora, siamo al 13 di agosto. Mmm, nella speranza che il signor Sissoko, poverino, è un sogno che si avvera. Actually, l'ho promosso soltanto per venderlo in Arabia Saudita. vogliamo cercare qualche esterno tutto campo barra terzino per sostituire full on. A parte che quelli veramente buoni immagino siano già andati. però, tipo, cerchiamoli in championship, cerchiamoli in casa, tra virgolette. ok, deve costare tipo 4 milioni. Non so senso cedere full on quest'anno, purtroppo, e dico purtroppo perché non mi è piaciuto per niente l'anno scorso, è che avendo zero soldi dovrei praticamente venderlo a circa 5, di quei 5, uno che viene trattato dalla società avrei 4 milioni per migliorarlo. Non lo migliorerei. E quindi rimaniamo fermi così, dai. Mercato per quest'anno terminato. Devo soltanto cedere il signor Sissoko. No, regà, non ho 20 milioni, quest'anno è tutto storto. Non dovete guardare 20 milioni, dovete guardare per capire quanto budget ho il valore budget attuale in basso a sinistra in questo riquadro. Io non so perché l'abbiano impostato in questo modo, ma dovete guardare budget attuale. E il budget attuale è letteralmente zero. È stupido, io non so che cazzo abbiamo combinato quest'anno, però è così. perché è tutto è importante la cazzo in questo modo, è uguale a la cazzo È quella che ha è una cosa uenta, è una cosa che cazzo che cazzo in questo modo, che cazzo in questo modo, è una cosa che cazzo in questo modo, ho avuto qui ad både risaxe Ok, Katowicz ha offerto 120.000 euro in più rispetto al Damak. Non ho idea di cosa sia quel più 20, cioè per me non ha il minimo senso. Intanto, signori, direi di andare a giocare la prima partita effettiva del giorno contro un Leeds che però... Cioè, che abbinamento di maglia di merda. Titolari sono i titolari, prepariamoci a scendere in campo. Penso in totale quello che ho speso, sì ma, cioè, no, neanche quello. Perché tra trasferimenti e stipendi io ho speso circa 12-13 milioni. Quindi boh. Perché c'ho il trainer? Frate, no. Toglilo. Signori, primo avversario di spessore in questa championship, ossia il Leeds United. Siamo a casa loro, Helland Road. Io spero di portarmi a casa almeno un punto. Secondo me quest'anno faremo molta più fatica rispetto al precedente. E voi direte, grazie al cazzo, io vi dico che... Secondo me quest'anno faremo davvero molta più fatica rispetto all'ultima stagione, ma non tanto perché si è alzata la qualità degli avversari, quanto perché non l'abbiamo alzata abbastanza noi. Tanto bravo Nuama a servire Tom Bloxham. Bloxham la mette giù con la testa. Calcia col destro. Tiraccio. Pessimo. Io sinceramente non so se possiamo raggiungere già la promozione in Premier quest'anno. Dubito fortemente. Ma cercheremo di giocare nel miglior modo possibile. Tanto full on. Perde palla. Leo Castledine recupera palla. Ce la fa. Dentro per Nuama. Tu per tu col porter. Patrick Nuama. Non si lascia ipnotizzare da Knudsen. Shrewsbury avanti. Ellen Road. Perché voglio giocare con la difesa a tre. E mi trovo bene. Ramazzani. Largo per Aronson. Entra in area. Il trequartista stato in tennis. Ancora Aronson. Alex Matos. Buono anche lui. Appena arrivato a zero. Dalle giovanili del Chelsea. Mi pare. Anche se non ne sono sicuro. Buono però adesso per Tom Blocco Prosciutto. Tom Blocco Prosciutto. Knudsen. Guardate che io di acquisti pagati con soldi diciamo veri. Ne ho fatti quattro in tre stagioni. Aina. Nuama. Slonina. Castrop. Gli altri tutti svincolati. Harrison. Il pallone per Shanklin. La mette giù lo scozzese. Che carica al destro. Va in porta. Slonina in angolo. Bravo. Slonina in due tempi. Fuloni. In profondità. Cercare Blocco Prosciutto. Carica al destro. Blocco Prosciutto. Gran botta. Knudsen. Peccato perché... Sì mi sarei potuto avvicinare un po' di più ma... Oh. Volete metterle. Euro goal. Aronson ancora. Via in velocità. Stein Peter su di lui. Stein. Non ce la fa tenerlo. Shanklin. Slonina in pallo. Ancora Shanklin. 1-1. Leeds. Che vabs. La nuova Champions non è malaccio come format. È un po' confuso. Devo vederla però per più di una giornata. A fine anno vi saprò dare un'opinione. Per ora è presto però... Cioè... Può essere una cosa simpatica. Krillic. Spaglia la verticalizzazione. Ne recupera. Palla adesso. Il lead con Ghiabì. Ramazani. Shanklin. Ancora il numero 9. Shanklin. Arraba 2-2. Con Slonina calcia in porta. E trova il 2-1. La ribalta e l'Its con la doppietta dello scozzese. Questa Championship sarà complicata, rega. Capite perché non ho abbassato? O meglio, ho alzato subito la difficoltà. Perché l'anno scorso stavo steamrollando tutti perché la squadra era troppo forte per la categoria. Ma di base mi sa che con la difficoltà siamo giusti, eh, quest'anno. Qua Piotrowski. Bello. Bello. Grande azione del Leeds che libera Harrison sulla destra. Finta di cross. Ancora via a Fulon. Eh, vince anche il rimpallo. Però certo. Bravo, Peters. Sono a campione, rega. Sono a campione come gli anni precedenti. Leo Castle Dine. Che Castle fai? Madonna. Oh, Eronson. Si è fatto via tutta la difesa. Ancora Eronson. Elude l'intervento del difensore. Eh, vabbè. Però che sfiga. Una certa. Castro tocca la palla dopo la serie di rimpaglie. Questa finisce tra il piede. Tra il piede. Ma niente. 3 a 1 dopo il primo tempo. Eh. Eh, 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 eh. Aiuto mamma. Joelle. I giocatori devono performare bene per superare il loro potenziale fisso. È una meccanica che si chiama potenziale dinamico e che è presente da un paio d'anni sul gioco. Tipo 2-3. Che ovviamente permette ai giocatori di performare meglio se fanno delle buone prestazioni, delle buone stagioni. Si prendono tipo un boost di crescita. E superano ciò che il gioco ha previsto per loro. Matos perde palla. Ce l'abbiamo. Shanklin ancora mette giù con la coscia. Calcia in porta. Palla alta. Castro. Gran palla per Nuama. Nuama punta il difensore. Poi poggia il pallone da blocco prosciutto. Che se lo ritrova dietro ai piedi però. Matos il 52. Va da Patrick Nuama. Percussione centrale di Patrick. Dentro per Tommaso blocco prosciutto. Tu per tu. col portier. Fuori gioco. Peccato. Shanklin ancora. Eronson in area di rigore numero 11. Eronson. pressato da due dei nostri. Palla alta. Ho fatto il cambio? No eh. Ok. Cuba Piotrowski. Gran palla per Castro. Pionale di rigore Jens. Jens. Ancora lui. Palla sul mancino. Invece calcia col destro. Ci arriva Knudsen. Grande partita dell'estremo difensore del Leeds. Oggi adesso che prova a ripartire. Bravo. Piotrowski. Wolfenden. Ancora l'ex Ipswich. Insomma. Un difensore centrale. Si vede. Eronson in contropiede. Adesso Shanklin. A spazio. Prova a chiudere su di lui Peters. Tiraccio di Shanklin. Nuama. Lungo sulla di testa per Castrop. La mette giù Castrop. Può mettere il cross in mezzo. Invece no. Bloxham. Castledine. Leo Castledine col destro. Ribatte Müllen. Alex Matos. Sinario di rigore. Salta l'uomo. Matos. Matos. La piazza. Buca Knudsen. E riapriamo la partita. Ho visto anche Fulona a terra. Spero non si sia rotto del tutto. Sennò vabbè. A parte che... Mendy... Lo faccio giocare volentieri. Però... Insomma. Tutta l'annata con un 64 sulla fascia. Schenckland. 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 Questa volta è buono. Il capitano. Blocco prosciutto per il 3 a 3. Bene così. Bene così. Bene così. 83. Mancano ancora 10 minuti. Cambio. Cambio. In realtà uno solo. Matos in verticale da Bloxem. Bloxem per Castro. Mamma mia. Una voragine su quella fascia lasciata da Firpo. Ancora Castro. Palla dentro. Chiude la difesa. Peccato. Ci abbiamo noi. Leo Castledine. Perde palla. Harrison. Fammi fare sti cazzo di cambi. No. Vabbè. Ultima opportunità in avanti. Per il Leeds. Junior Firpo. Per Ramazani. In area dei rigoli 17. Tocco corto per Schenckland. C'è Slonin e poi Mato spazza. Mamma mia che brivido alla fine. 3 a 3. Secondo pareggio in due partite. Insomma terzo in tre con l'IFL. Eh. Furono indisponibile a causa infortunio. Ok. Per quanto? Solo cinque giorni. C'è anche andata bene ragazzi. C'è anche andata decisamente bene. Oh. Signori. Ceduto Sisoko. L'uomo della salvezza. L'uomo del soldo. Perdonami broski. Mo' però con i tuoi soldi. E ora con i tuoi soldi. Io vado a rinnovare. Ah. Bastardo. Ci riveliamo tra un attimo. E ora con i tuoi soldi. 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 Devo aspettare Saving e Aina adesso Aspettiamo Saving e Aina Acquisti in mente Dovrei rapirare una banca Per farli O arriva un'offerta per full on Di tipo 8 milioni In quel caso cool Se no faccio a meno E ora signori è il momento del Sunderland Dei Black Cats Dai giochiamola No ma guardate che io sono a posto Cioè La rosa non sarà lunghissima Ma numericamente sono a posto Qualitativamente ovviamente no Ma sono appena arrivato dalla serie C inglese Datemi tempo E tanto signori Salve Prima partita dell'anno al New Meadow Forse sì forse no Non lo so Bray Anderson Alexic sulla sinistra Costegno dalla gare Wolfenden Mandol Si infila nel varco lasciato da Wolfenden Ma ienda Finta di tiro Bravo Wolfenden Perfetto Piotrowski Perdiamo palla Ma io Guardate Io l'ho già detto Sia nella live di ieri Che un paio di volte oggi Ma ve lo ripeto Intanto attenzione A povera che entra in area Bravo Slonina Io non ho obiettivi per quest'anno Cioè L'unico obiettivo vero e proprio È Giocare nel miglior modo possibile Arrivare più in alto possibile Se arrivo ai playoff Bene Se arrivo addirittura in premier Meglio ancora Ma non ho obiettivi Nel senso Diciamo che l'unico vero obiettivo È non retrocedere Poi se mi salvo e basta Se vado ai playoff Se vado direttamente in premier Tutto di guadagnato Ma di base L'importante è far crescere i nostri Quest'anno Bravo Peters con la chiusura Castrop Per Nuama Fallo Grilli ci ha segnato come difensore centrale Su sto gioco E quindi lo tengo lì In realtà Farebbe un grande upgrade Da centrocampista Ma Finché non lo vendo Non mi conviene cambiare di ruolo Se l'hanno provato Decido di darlo via Faccio grandi soldoni E lo sostituisco alla grande Intanto occhio ad Alex Il cenario di rigore Il numero Sette 1-0 Sunderland Ottimo commentary Da Pindy Mai Bravo Pete Forse Sì raga sono in champion Madò Ieri Tutti a chiedere Mattia Come mai sei ancora in Liguana Terza stagione Oggi Ma sei in championship Figa Bravo slonina No dai Che cazzo fischi il rigore Ma per piacere Ancora sta puttanata Ma vaffanculo Pure il giallo Dai cazzo Sono state scivolata Poi lui è inciampato su di me Vent'anni dopo Ma non puoi fischiare il rigore Per queste cose Neil Vai a cagare 2-0 Per il Sunderland No Non metto musica Attenzione ad Alexic In area al 70 Ancora Alexic Per Maienda C'è slonina In due tempi Arrivaci Bravo Gabriel Nuama Prova a tagliare la difesa Con un buon passaggio Cercare Tom Blox Enblox Minare il rigore Calcia col Mancino Palla altissima Lo so che c'è scritto Sì le partite sono 46 Regà Anche in questo campionato Sono 46 Perché le squadre sono 24 Gran botta di vita Sempre Alexic Che non dà punti di riferimento Di davanti Sempre a destra Sinistra Sinistra E ovunque Tranne che dove dovrebbe stare Cioè fuori dai coglioni 3-0 Maienda Fu l'onda Fu l'onda la bandiera giocando la testa Il Tom Blox Peccato Se le partite sono 46 Le squadre 24 Significa che ad ogni giornata Una riposa No Si gioca una partita Andate ritorno con tutte Si giocano 23 partite Cioè le squadre che affronti Sono 23 E la 24 Sei tu Bella chiusura loro No in realtà Allora Il gameplay Allora Posso dire una cosa stupida Io non capisco tutti coloro che si lamentano del fatto che il gameplay sia uguale Regà è un gioco di calcio Per giunta prodotto dalla stessa casa Cioè che cazzo vi aspettate Che cambino ogni anno il modo in cui funziona Ehm Per me è abbastanza da illusi pensare che EA ogni anno rivoluzioni il modo in cui Vai effettivamente a giocare Non puoi Cioè Deve darti quel senso di familiarità È fatto apposta Poi Allora Sarà che ho un modo di vedere le cose completamente diverso Ma Aspettarvi un gioco completamente nuovo di anno in anno Con delle rivoluzioni enormi dal punto di vista del gameplay Per me Cioè È un po' naive come cosa Perché Obiettivamente Che senso avrebbe modificare ogni anno completamente tutto quanto il gioco Non ne avrebbe Ecco questa è la risposta Per quello che mi riguarda Per la carriera del natore Hanno aggiunto abbastanza Novità Da Potermi ritenere soddisfatto Ok Poi per carità io molte di queste cose già le facevo tramite mod Gli anni precedenti Però Pensandola anche in maniera Meno Content creatoristica Più proprio casual gamer Tanto bravo Bloxem 3 a 1 Il fatto che finalmente io possa avere queste disposizioni Di base Sì vabbè Il fatto che io possa avere queste opzioni di base nel gioco Alleluia Il prezzo del gioco è elevato Sì ma rega ma In realtà è perfettamente in linea con qualsiasi altro triple A Che esce in questi anni E io non Ripeto Trovo un po' naive aspettarsi che EA cambi ogni anno Perché non avrebbe senso Eh vabbè 4 a 1 Poveda Che palle Cioè Allora Vediamo se riesco a fare questo discorso con Un minimo di senso compiuto Perché ogni volta che inizio una frase Mi sembra di Non poterla portare da nessuna parte Patrick Buono punizione Non poterla portare Peccato Allora Mi sono impappilato un sacco durante i due gol precedenti Quindi provo un attimino a mettere in pausa E sintetizzare il discorso Ma di fatto Il succo qual è? Che senso ha per EA Cambiare completamente Il gameplay di FIFA Barra FC Di anno in anno Non ne ha Non ne ha Cioè allora Non ha motivo EA non ha motivo di cambiare Di anno in anno Il gameplay È normale che possano fare Dei piccoli accorgimenti di qua E dei piccoli accorgimenti di là Ma di base È un gioco di calcio Le cose che puoi far fare A un gioco di calcio Sono limitate Certo Potrebbero fixare Alcune cose Quello sicuro Ma A meno che non stravolgano tutto È difficile cambiare poco Faccio fatica a formulare i miei pensieri Ci riprovo un attimino Allora Per Una Casa Videoludica Non ha senso Smontare Ogni anno Il codice E ripartire da capo Soprattutto per giochi come questo Che escono annualmente Perché è controproducente Cioè Sprecheresti un sacco di tempo Per rifare Da zero Un engine Che tutto sommato Di funziona Perché permette A i giocatori Di giocare A un gioco di simulazione calcistica La gente che si aspetta Rivoluzioni Stratagionalmente ogni anno Secondo me È un po' naive È un po' illusa Perché Non lo faranno mai Poi voi potreste dire Sì ma Perché Che senso ha quel punto Comprare Il gioco di anno in anno Ma non ce l'ha infatti Io faccio proprio fatica A fare sto discorso Un punto per volta Io mi rendo conto Che a livello di gameplay Non ci siano state Grosse modifiche Rispetto all'anno scorso Ma è normale Che sia così EA Non può Ogni anno Prendere E smontare Completamente il codice Per poi ricostruirlo O comunque Non ha senso Che lo rifaccia da zero Ogni anno Ci sta che prenda La base dell'anno precedente Quando useranno Un altro engine Probabilmente Cambieranno anche Tutto il gameplay Per il momento Questo è E questo ci teniamo Personalmente Per quello che riguarda Le modifiche Che hanno fatto Alla modalità carriera Che è l'unica che gioco Mi ritengo soddisfatto Mo' È vero Sono cose che facevo Anche gli anni precedenti Tramite mod Ma il fatto che Siano presenti nel gioco base Nel gioco vanilla È una cosa Assai positiva Per i videogiocatori In generale Non per me Non per me Tierless Ma in generale Lo è Ok Poi voi potreste dire Sì ma Costa troppo In realtà è perfettamente In linea con I costi dei videogiochi AAA Degli ultimi anni Ma Che senso ha Comprarlo ogni anno Allora Nessuno vi obbliga Io se non ci lavorassi Con questo gioco Non lo comprerei Ogni anno Lo prenderei Un anno sì Un anno no E quando vado a comprarlo Non lo prendo neanche Al day one Lo prendo Magari Cioè In questo scenario Il gioco Non lo prenderei Neanche al day one Lo prenderei Tipo dopo qualche mese Quando è in sconto Perché come dite voi È un gioco di calcio Cioè Se voi compraste FIFA Barra FC Una volta ogni 4-5 anni Notereste delle grosse differenze Di anno in anno Non le noterete Non le noterete mai Perché non fanno Grossi cambiamenti È normale Io da consumatore Mi sento preso per il culo Per anni ho acquistato FIFA per rendermi conto Ogni volta Che le mie modalità preferite Non venivano nemmeno aggiornate Ma appunto per questo Secondo me Non va comprato ogni anno Chiamatemi scemo Ma Oddio cosa ho fatto What the fuck Oh buono In realtà O magari Sono strano io Sono storto io Ma Se non fosse Per questioni lavorative Io non lo prenderei Ogni anno Ma infatti Quelli che dicono Eh ma perché dovrei Comprare ogni anno Un gioco che cambia Poco di volta in volta Secondo me Non lo devi comprare Ogni anno Cioè A meno che Tu non ci vada A lavorare O a meno che Non sia l'unico gioco Che effettivamente Giochi nella tua vita In quel caso Ci sta Perché il numero di ore Che investi Alla fine Vengono Sono sufficienti Per ripagarti Il cartellino speso Mettiamola così Per il resto Boh Ma questo discorso vale Per qualsiasi altro titolo Con cadenza annuale Ci sono tutti gli NBA 2K Madden Inserire gioco Sparatutto Che è sicuramente A cadenza annuale Ma che non conosco Perché non seguo il genere 500 ore all'anno È ripagato Ma quello è personale Cioè Personalmente Se spendo Che tiro di merda Se spendo 100 euro Per un gioco Facciamo 100 Stiamo larghi E ci gioco 500 ore Vuol dire Che io Per ogni singola Per ogni singolo euro Sono 5 ore Ok Per ogni ora Spesa dietro al gioco Sono 20 centesimi Sì Ci sta Cioè Il rapporto È giusto E signori Brutta partita Che si conclude 1 a 4 In favore del Sunderland Pessimo inizio In championship Per noi Pessimo Tier non per fare L'antipatico Ma nella realtà Lo Shrewsbury Ha fatto la championship Non è vero mai Non è vero mai Ah tra l'altro Io stavo Filmando lo schermo Neanche Vabbè Allora Ha fatto Qua Dal 1890 È sempre Solo Campionato regionale Fino a quando Arriva In division 3 Chi non ha idea Di cosa sia Division 3 Division 3S Sarebbe La terza serie La division 2 Non l'ha mai fatta Ah no L'ha fatta È vero Negli anni 80 Però Non l'ha mai fatto La championship Perché Perché teoricamente Fino a Il A questi anni Qui Ha fatto la division 2 Nel momento esatto In cui è nata La Aspetta Division 2 Cosa dice qua Football League Second Division È il secondo livello Ok Sì L'ha fatto È vero Ho detto una puttanata Li tiro tutto Sto zitto Allora Prima di andare avanti E giocare contro il Fulham In Carabao Porca merda Fatemi un attimino Riaprire E richiudere Il discorso Che stavo facendo Durante la partita Perché Non aveva senso Dato che ero concentrato A fare 8 cose diverse Praticamente Io di base Faccio fatica A capire Coloro Che si lamentano Dei pochi cambiamenti Al gameplay Di anno in anno Perché Sarò Un pochettino Disilluso io Ma di grossi cambiamenti Di base non me ne aspetto Perché realisticamente Un titolo Che esce con cadenza Annuale Non può stravolgere Completamente Il modo In cui Il gameplay Viene percepito Dal giocatore Ok Il modo in cui Si gioca Effettivamente Al gioco Quindi Boh Cioè Mi sembra anche Una polemica Un po' sterile Voi potreste dire Sì ma È un gioco Che ha il monopolio Non ha rivali Si siedono un po' Sugli allori Vero ma Anche Se Dovessero esserci Dei rivali Credetemi Che il gameplay Non cambierebbe Così tanto Cambierebbe Pochissimo Io personalmente Sono soddisfatto Dei cambiamenti Che hanno fatto Ma perché gioco Solo la carriera E lì hanno Effettivamente aggiunto Un sacco di cose nuove Che sì È vero Io potevo già fare Tramite mod Negli anni precedenti Ma Di base Adesso sono presenti Nel gioco vanilla Non moddato Ed è un passo avanti Enorme Visto che per gli ultimi Cinque anni L'hanno ignorata Questa modalità Pertanto io mi ritengo Soddisfatto Voi potreste dire Sì ma 90 80 100 euro All'anno Sono davvero troppi Comprensibile Ci sta come ragionamento Il motivo per cui Io lo compro ogni anno È che ci lavoro Se non ci lavorassi Io questo gioco Lo prenderei Un anno sì E un anno no E l'anno in cui lo prendo Lo prendo magari Non al day one Ma al primo momento In cui ci sono sconti Nessuno ci obbliga A comprare il gioco Al day one E nessuno ci obbliga A comprarlo ogni anno Sta a noi decidere Quando effettivamente Effettuare Quando effettuare L'acquisto Con quale cadenza Effettuare L'acquisto E soprattutto Capire se I soldi Che stiamo spendendo Poi vengono ripagati Dal tempo Che ci dedichiamo Perché se ci spendiamo 90-100 euro All'anno Per giocarci 25 ore all'anno Magari sì Stiamo un attimino Spendendo troppi soldi Ma se poi ci giochiamo Per 500 ore 100 euro Che sono comunque Tanti per un videogioco Ma in linea Bene o male Con quelli che sono I prezzi Per i giochi Next gen Comunque Cioè Alla fine Hanno senso Sono 20 centesimi All'ora Paghiamo molto di più Per Fare tutto Nella vita Praticamente Perciò Cioè Boh Non è insensato Di base Secondo me Dovrebbe essere Base del gioco Calcio Palone E ogni anno Devono aggiungere Sistemare modalità Squadra Eccetera Sì ma infatti Sono d'accordo Ed è esattamente Quello che fanno Però il problema Qual è È che magari Ci sono Dei piccoli problemini Dei piccoli Exploit Che sono stati sfruttati Negli scorsi anni Da Diciamo La fanbase E che non l'hanno Fixato Io non giocando Online Queste cose Non le vedo Cioè Forse è il mio Punto di vista Un attimino Munito di paraocchi Cioè Forse sono un po' Munito di paraocchi Quando do questa opinione Perché giocando Offline Non mi ritrovo Ad avere a che fare Con gente che va Ad exploitare Ogni singolo Piccolo problemino Del gioco Ha proprio vantaggio Io gioco Contro La CPU E quindi Magari non percepisco Tutti questi fastidi Detto ciò Signori Fulham Mark Prima o poi Imparerai Che non devi scrivere Tutto maiuscolo Porca di quella puttana Oh Madonna Madonna Che fastidio Ogni sera Ogni sera Ogni sera Posso Posso richiamarlo Sto stronzo Fermo Che fastidio Che cost zoom Che costqolzo Che costqolze Facciamari Che costqolze Cette Italia amui Che costela Tulu Walze a Rocodare Che nome incredibile Rio Adebisi Gellhart Boh, regà Lo so che forse non ha senso Ma tolgo tutto e tutti No, c'era uomo formula magica Vabbè Osservo giusto Bangura Eh, no, neanche Bangura Tu, rientrami Ah, tu sei già in viaggio Istruzioni Allora Togli roba Contratto Un anno Stili di gioco Chi se ne frega Livello generale Da prima squadra Ruoli principali Oh Gig and pressing Qualsiasi Magari Non troppo in là Con l'età Fai tipo 19 27 Vai Bene Se proprio Devo cercare gente Che le cerchino sensate Detto questo Quattro anni Che non lo prendo Ma vorrei fare Il manto Ma ce le ha le licenze Sì, sì, sì Tieri Io gioco solo offline Facendo FIFA 10 17 23 Il cambiamento Si nota molto di più Eh, quello immagino Gli FC 25 qualcosa Lo noto e mi stuzzica A noi che non ci sono nazionali Eh, quello lo so Quello dà un fastidio anche a me Che ci sia poca roba Va bene Vai Ah Carabao col Fulham Ma sì Dai Giochiamo Sì, sì Offline puoi giocarci sempre Cioè se anche dovessi trovare Il modo di acquistare Che ne so FIFA 08 per PC Perché ci sarà sicuro Il modo di farlo Anche se non saprei dirvi Esattamente come Io credo che tu possa Ancora giocarlo Ma anche tipo FIFA 14 FIFA 15 Tu li puoi giocare Semplicemente Non hai accesso Alle modalità online Perché anche io sei server Ma Offline Ci puoi sempre giocare Sì Shipley Per Castro Partiamo forte Qui al New Meadow Castro dentro Per Clio Castledine La chiusura del difensore Munir che agguanta la palla Peccato Jordan Shipley Cuba Piotrowski Di ritorno In realtà Un cazzo di niente Di ritorno Attenzione È partito Vinicius Ancora la punta Brasiliana Sempre più vicino All'area di rigore Lo riprende Wolf and then Stein Petters A cercare Castro Qui interviene Smithrow Vinicius Bravo Petters Ma quindi Questa è la prima partita Contro una squadra Di Premier League Aha Shipley Cambio di gioco A cercare Dan Fulon Di testa Al belga Chiuso da Tete Poi Heise Iwobi Pereira Attentare a fondo Buon Peters Ma non ce la fa Vinicius Castrop Piotrowski Full on Castledine Per via centrali Ancora il 19 Va da Shipley Anzi no Va da Piotrowski Il quale Ora va da Shipley Leo Castledine Per Matos Matos Ancora lui Dentro da Tom Bloxham La stop Chiude Calvin Bassi Obrador Smithrow Smithrow Palla per Vinicius In area 2x2 Con Slonina Col Mancino Va a ribattere Il portiere statunitense Pallone che finisce Dai Wobi Oh tutti così Gli sto prendendo i gol Quest'anno Eh beh Ha perfettamente senso Il fatto che lo usino In New Saints Perché Sono una squadra Gallese E Shrewsbury E Shrewsbury è molto vicina Al Al confine Col Galles Andrei Grazie ancora Ma dopo Dopo i 25 di ieri Oggi 10 Che esagerazione 10 roids Per FC 26 Ah di sto passo Lo compro domani Un bacione Bello Oggi mi sono rivisto La tua HC con Metti ed SP Giochi Se non lo usi Per FC 26 Usali per la nuova Generazione DTR Sarà fatto Buon uomo Un bacione enorme Grazie Bello Thank you Thank you Thank you Leo Castledyne Con la finta Per mandare al bar La difesa Ci va uno Non il secondo Reed Finisce anche il rimpallo Colmato Se poi recupera Palla Piotrovski Castrop Bello veloce Castrop Si appoggia da Shipley Shipley Per Castrop A cercare Tom Blox Sem di testa La traversa La traversa Di blocco prosciutto Che però Era anche in fuorigioco Vero Non sia mai Che un buon colpo di testa Si è in posizione regolare No purtroppo Al GV Quest'anno Non vado Preferisco stare a casa Con Con Claudia E Bimbep So che è una cosa Un po' brutta Da dire ma Cioè È un periodo Abbastanza complicato No con Una creaturina Così piccola Se Vengo pagato Per la presenza Una fiera Ci vado Volentierissimo Se no Per ora Posso anche Fare a meno L'anno prossimo Se ne riparlerà Quest'anno Evito Dove ho comprato La maglia Sul sito Dello Shrewsbury Sì sì È quel full on lì È quello del Benevento Allora Nome Di Bimbep E anche Sesso Infatti Uso il neutro Per quel motivo Non lo voglio dire Pubblicamente Questione di privacy Per quest'anno L'avevo detto Anche a Come si dice Al management Io ho detto loro Cioè Al manager Io ho detto Guarda Sicuramente I primi sei mesi Dell'anno Per Attività di persona Presenze A eventi O fiere E non mi considerare Minimamente Nella seconda metà Quindi di fatto Da settembre in poi Sì Ma solo su Insomma Compenso Perché La neopapà Di andar via Magari un weekend Intero Per lavoro Non mi va Se poi Claudio è qua Magari in difficoltà Da sola Con Sid L'anno prossimo Dovrebbe essere più tranquilla La situazione Piotrowski Nare di rigore Salta l'uomo Piotrowski Vado a Bloxen 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 Per Castledyne Parigio Shrewsbury Con Leo Castledyne Assistito Da Tom Bloxen E il Fulham Si fa Agguantare Il GV È una fiera Milano Games Week Sono andato per tanti anni Diciamo Post-Covid Ho fatto soltanto Una data 2020 Bravo Post-Covid Ho fatto soltanto Il 2022 Mi pare Sì 2022 Ovviamente Il 2020 Era saltato 2021 Non l'ho fatto Perché ancora Non me la sentivo 22 L'ho fatto 23 L'anno scorso Con Claudia Incinta Ho detto Bloxen Per Castro Stop Shrewsbury 2 Fulham 1 La ribaltiamo In un paio Di minuti Con la doppietta Di assist Di blocco Prosciutto Segna Jens Castro Pregà Clamorosamente Avanti Contro una squadra Di Premier League Ma però vediamo Perché comunque Abitando in Lombardia Adesso Tanti di questi eventi La maggior parte Di questi eventi Avvengono qua Ci sta che io Posso andare Da qualche parte Comunque Tutti bene In questi giorni La belva È parecchio Inferocita Perché Siamo in quella Fase della vita Di I neonati Tantazione a Piotrowski Per Castro Ancora opportunità Per noi Castro Messo giù Da Obrador Ma in maniera Regolare E Siccome Sta imparando A stare in piedi E Conseguentemente Sente la necessità Di Starsene sempre di più In autonomia Senza essere a contatto Con mamma O con papà Diventa Complicato Perché Perché Magari Intanto Attenzione Piccoli Ok Magari È giù Per i fatti Suoi Dopo qualche Secondo Vuole provare A mettersi In piedi Ce la fa Appoggiandosi A cose Però poi prova A staccarsi Ma staccandosi Non ce la fa Allora Si incazza Si incazza Inizia a frignare Viene verso di te Perché Vuole stare In braccio Allora Tiri su La belva Questi Dieci Chiletti Di belva Benissimo Dopo tre Secondi Inizia Un altro Piantino Perché in realtà Non vuole stare In braccio Ma vuole stare Giù In una specifica Maniera Ed è un Continuo È un Continuo Schipley Jordan Schipley Mette il suo Marchio Anche in questa Competizione Il numero 26 Porca Troia Inaspettato Gol da fuori Aria Col piede Debole Tra l'altro Un tiraccio Perché è Pressato Calciato Così Un po' A culo È entrata Buono Oh no Errore adesso No Sono impostazioni Piccoli Per Schiaparenco Da dove Cazzo Ti Beh Slonina Uccellato Signori La riga Per il Fulham A Dieci Dalla Fine Aiuto Mamma Andras Pereira Salta Quattro Persona Ancora Pereira Col mancino Slonina In angolo Ah Del ciuccio Non ne vuole sapere Manco Mezza Cioè Che schifo Il ciuccio Fallo Ok Comunque Comunque Slonina Fino a questo Momento Piuttosto Deludente Se posso Dirlo Piuttosto Deludentino Schipley In verticale Per Tom Bloxham Bloxham Largo A cercare Full on Pessimo Pallone Di Tommaso Smith Rowe Mi da fastidio Il fatto che Quest'anno I cambi Non li faccia Subito Devo abituarmi A sta roba Aia Opportunità enorme Per il Fulham Per il 3 A3 Con piccoli Che spara alto Che culo Mendy Fermato Mendy Subisce Fallo Bene Mendy Ancora il giovane Congolese Idrissa Mendy Ne salta 2 Velocissimo Il 48 Che come il suo numero Causa un 48 Mazzarale di rigore Va in porta Mendy Palla fuori Ma signori Poco in porta Lo Shrewsbury Town Elimina Il Fulham E guadagna così La prima vittoria Stagionale Incredibile Che sia arrivata Contro una squadra Di Premier E comunque Ripeto Periodo complicatino Con la Belva Finirà Finirà Staremo tranquilli Un po' più tranquilli Ok In che fase Di EFL Siamo adesso Ma io ce l'ho Del budget Fermi tutti Che vado a prendere I preparatori Fermi tutti Dove si fa Dove si fa E grazie Dario Per i 10 Franchi Svizzeri Che dovrebbe essere Circa una decina Di euro Mi pare Un bacione Gentilissimo Thank you Tattica Svizzeri Ok Eh vabbè Non stare così tranquillo Quando ero piccolo ero una belva E' rimasto per sempre così Sono un rompipalle categorico Ottimo, buona sapersi, grazie No vabbè però Cioè concettualmente so che La fase in cui Bimbep Vuole starsene Per i fatti pro O meglio Imparerà a starsene sempre di più Per i fatti propri Senza Frignare perché Ah voglio stare in braccio Ah voglio stare giù Insomma si arrangerà a fare quello che vuole fare Sì save Ah no saving non l'ho rinnovato ancora Spero di avere abbastanza soldi per farlo Anche a Iina mi servirebbe Ho finito i soldi Non posso comunque rinnovare saving No Toby Toby no Toby no Vabbè Va bene Dovrei vendere un altro giovane Ma non ho manco i soldi Per mandare in giro l'osservatore Forse Vero Ah invece ne ho di soldi E allora famolo Piano Diciamo che il prossimo fenomeno del calcio mondiale Lo andiamo a cercare Hmm In Georgia La Georgia sforna talenti Però solo tre mesi Poi non ho i soldi per prenderli È vero No Vabbè raga Niente È anno strano questo Senza soldi Va bene uguale E ora teoricamente toccherebbe allo stoke Ma quasi quasi lo schippo lo stoke 3 2 1 Ah mi sto cagando in mano Ah 0 a 0 Oh ma tutti pareggi Non lo so se farò imperialismo Ancora non ho deciso cosa farò quest'anno 4 partite 3 pareggi Una sconfitta Bene Beh però teoricamente saremmo salvi Eh ad oggi Botta di vita Andrei Buona serata Buonanotte Minchia Quanto l'ho pagato ARP? Boh lo stipendio e basta L'ho trovato svincolato In che senso offerta È ricevuta per Peters No 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 Stein Peters No Attivo avanzo di un'ora Se avevano offerte per full on Ok No è tardi per full on Basta Stein per il momento rimane qui Rapporto bimbo P-gatte No Tutto bene Diciamo che le gatte Sono ancora un po' diffidenti Ma È normale Il vlog Non credo che lo farò mai Ok Non ho sbagliato Volevo tenerti ala Ok Bene Allora Non fosse per il fatto Che Sono ancora secco In campionato Quella col Millwall Io la skipperei Però potrebbe essere La giornata giusta Per Insomma Oh mio dio Leao a Real Per portarci a casa La prima vittoria In tutto questo Vedo Leao a Real Fatemi vedere Quali sono stati I trasferimenti dell'anno Cio Cio Non ci sono cose Così sbagliate Oddio Nahuel Molina Che fa Liverpool Bayern Per 62 È strano Cirzeva All'Ipsia Ce lo vedo Musa Diabì Che torna All'Aston Villa Tre anni dopo Per 56 6 e 7 Turam al Newcastle L'altro Turam al Lupopoli Buè al Real Bellino Ferguson all'Atalanta Caruccio Sto aspettando Sto aspettando quelli Con squadre ignoranti Perché ancora Non ce n'è stato E minchia Calulu alla Roma Per 36 Mi sa che su questo gioco Non hanno la più palle Di quella che è la situazione Minchia Loge Calmonza Eccolo quelli ignoranti Adam Loge Calmonza Calafiori All'Union Berlin Ahà Cambiato al Bournemouth Eh Che belle queste cose Vabbè Ok Allora Come detto Il Millwall L'avrei tranquillamente Schippato Ma Siccome siamo Diciannovesimi Ancora secco di vittoria In campionato E il Millwall Dovrebbe sulla carta Essere affrontabile Devo pisciare Arrivo subito Allora Scusatemi Ho fatto anche Un po' di cacca Hello Bentornate al New Meadow Datemi la prima vittoria Dell'anno Per favore Micchia Madò Tanganga È finito al Millwall Che finaccia Cazzo Un paio di anni fa Era fenomenale Trovavi sempre Dagli svincolati Come Asa Ada Lo spostavi in centrale Faceva più 6 Guarda che fine ha fatto Poverino Tanganga Per McNamara Siamo sempre noi Adesso a tenerli alti O meglio bassi Aziz Oh mio dio Che pessimo intervento Difensivo Che ho fatto io Con Grillic Fleming Per Mitch Lesce Wolfenden Che Non riesce a recuperare Palla Neanche con Di vado dagli altri Grillic Piotrowski In avanti Da Bloxham Tommaso Blocco Prosciutto Leo Castledine Per Fulon Oh la prende Non pensavo Si si aspetta Che con i miei 280.000 euro 215.000 euro Compro Yildiz Tanganga Vada Mitchell The North Mayor Leo Castledine E' partito Il 19 Palla larga Per Castrop Castrop Coglione Il campo Bagnato Non sta aiutando Comunque In sta partita Castledine Io sono pure Stupido Brutto errore Cadri Grant Rubiamo palla Con Piotrowski La perdiamo Ancora The North Cazzo ovunque Quell'uomo Ora Leo Castledine Dopo il recupero Di Piotrowski Castledine Per Fulon Mette giù Palla al 2 Punta l'uomo Rientra sul destro Ancora Fulon Va in porta Pala col braccio Grant L'arbitro Non dice niente Angolo Quindi Fulon Penso di sì Non ne sono ancora sicuro Al 100% Della carriera Con il suo Tirol Se arriva Comunque arriva Diciamo a febbraio Dell'anno prossimo Leo Castledine Dal limite Col destro Buona idea A inizio carriera Se non sbaglio Un 62 Blox Se mi dai un esterno destro Non una punta Ma tipo si Si adatta Alla ruolo di punta In 4 settimane Castrop Bravo Castrop Entra in A Non è entrato in aria Tom Blox Che gol Stupido Secondo gol Idiota Della carriera Per lui Molto bene Viva il Geggen Pressing Cioè guardate qui La difesa Si impappina Blox Con l'intervento Vince il rimpallo La tocca Col sinistro Per mandare fuori Giri il portiere Ed è gol Clamoroso Tommaso Grant Brian Kadri Torna indietro Da Grant Pressato da Due tre giocatori Del Attenzione al Millwall Che si sta schiacciando Sempre più indietro Tanganga Per McNamara Perde infatti Palla McNamara Rimessa Loro Peccato Tamar non cominciamo Per favore Cadri Bravi noi Il cazzo bravi noi Flemming Bravo Peters che perde subito palla Ancora Flemming allora va via il giocatore su Iname Va in porta Slonina si oppone I gatti Stanno bene ci hanno da rompere le balle ma stanno bene Aziz dalla bandierina Mancino tagliato ad uscire Esce Gabriel Slonina Che si accascia sul pallone e poi fa ripartire i suoi Jens Kastrop Nuama Lungo a cercare Tommaso blocco prosciutto Punta l'uomo non lo salta Quindi torna da Kastrop Leo Kastledine Per Matos In area di rigore Matos Invece no Kastledine dal limite Matos Ancora Kastledine Per Cuba Piotrowski Prende la mira al 21 Va in po' Va bene Ce l'abbiamo ancora noi Matos Matos Palla sul mancino Dentro Da Nuama Dal dischetto Patrick Nuama Jensen in angolo Gran peccato Fulon adesso dalla bandierina Giocata dentro la testa Di Tommaso blocco prosciutto Chiude McNamara Honeyman Uomo miele Per Grant Mi è l'uomo Madonna Wolfenden Che recupero palle Insieme a Peters Matos Per Leo Kastledine Vedo l'inserimento di Nuama Lo serve Di testa Grant A chiudere Peccato Facciamo un paio di cambi Va Dai Tommaso Hai giocato bene Ma Un po' di riposo Te lo concedo Anche a Kastledine E l'ultimo A Grillic Camar Camar Per piacere Dai I gatti calzini Cosa sono i gatti calzini Aziz Partito sull'auto di destra Ancora numero 11 Entra nel rigore Praticamente indisturbato Wolfenden Non riesce a intervenire Ancora Aziz Slonina Ci tiene Il suo primo clean sheet Dell'anno Ci tiene come Non la contropiede nostro Con Fulon Che perde palla Mamma mia Che giocatoraccio Fulon Esci mi Esci mi Slonina Esci mi No Il liscio di Slonina Si Erroraccio Erroraccio Idou Dentro per Jan Fietearp Palla sul mancino Per il tedesco Che va in porta Jensen respinge Peccato Matos Sta alla bandierina A cercare il suo secondo palo Wolfenden Cerca la torre Trova L'opposizione Dalla difesa Honeyman Chiude Wolfenden Che poi riparte Mendy Nuama Dai 25-30 metri L'appoggio Da Jordan Shipley Shipley col destro Ribatte Mitchell Raccoglie poi Castrop Ancora Jens Dentro da Harp Angolo Alex Matos Dalla bandierina C'è che dentro la testa Di Giorgio Infermiere Non ci arriva Harp La sponda Idou Ah cazzo è vero Il Fanta Bravi che adesso Controlliamo al volo Perché ho un dubbio Volevo chiedere a voi Chi mettere in campo Harp Per Nuam Minare di rigore patica Tu per tu con Jensen Si fa ipnotizzare Bravo Jensen Hanno ancora Mendy Idou Sbagliamo tutto Attenzione Occhio al Millwall Che può colpire Adesso 2 contro 1 Praticamente Fleming Fleming Allargato da Peters Vada Aziz Aziz adesso Sul lato di destra Per cercare un cross In direzione Fleming Che stoppa Va in porta Palla alta Peccato Per fortuna Che peccato Idrissa Mendy Di prima Cercare Jan Fiete Arp 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 Peccato E signori Sta per scadere Il recupero Di questa partita L'arbitro Fischia tre volte Prima vittoria In championship Per noi Sherusbury 1 Millwall 0 E insomma Troppa 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 fatica Troppa fatica Troppa fatica Davvero Però 3 punti Finalmente È come il Tottenham Ma sei serio Ma scusami eh Ma siamo tipo Ai sedicesimi Io mi becco Il Tottenham Cioè siamo tipo Al sedi Ai sedicesimi Io ho il Tottenham Mi dovevo beccare Grazie SIG per la donation Da un Royce Un bacione Bello Gentilissimo Come stai? Cioè perché uno Dei sedicesimi Dovrebbe essere Port Vale Arrogate Town Mentre l'altro Dovrebbe essere Dov'è che è finito? Che cazzo Sti tasti L'hanno cambiati tutti Tottenham Shrewsbury E nella stessa Competizione Ci sono anche tipo Port Vale Arrogate Crawley Town Derby County Coventry Huddersfield Ma perché Non potevo beccarvi Un accoppiamento Simile Grazie per il coffee Ma coffee O coffee Quello che giocava Nella Roma Coffee Ha giocato Nella Roma Vero? Oh no Forse è proprio Un coffee C'era un giocatore Ganese Che aveva Come cazzo Si chiamava Allora Allora Cuffur Cuffur Io stavo pensando A cuffur Ho sbagliato Vabbè dai Joke Joke not funny Mi spiace Poi difesa E poi difesa 3 Con gatti Mancini Martina e squarta Sono indeciso Se Tipo Togliere gatti Per mettere Uno tra Chachua E Tavares Però Credo Che lascerò Così Non toccherò Niente Perché Martina e squarta Da Gatti È rotto Vedrò Domani Cosa dicono Però Non me lo dà Cioè Se io guardo La voce Infermeria Cioè Non Non me lo segna Né in dubbio Né in dubbio Né in squalificati Quindi Però La lascerei così Nel caso Tavares Al posto di gatti Sì però Tavares Mi gioca Conto il torino Che è molto Ben organizzato In campo Gatti Ha sempre fatto bene È un tipo Un 6 6 e mezzo Sicuro Tavares Magari no Qui devo ancora Capire un attimino Guarderò domani Pomeriggio Poi Ehm Ehm A centro campo Ederson Reinders Lazovic McTominny Metterei Neres Ma Neres Non parte Titolare E quindi Va bene così Perché gli altri Centrocampisti che ho Sono Douglas Lewis Fazzini Che però è ancora rotto Ed è Kellencamp Che gioca contro L'Inter Quindi Va bene così Il centro campo E poi Attacco a 3 E qui ho l'altro Dubbio Perché ok Ehm Di Bala che gioca Col Venezia E Reteghi col Bologna Sono giusti Ho il dubbio Col terzo Perché non so se mettere Ken Che è contro L'Empoli Bonnì Contro il Cagliari E Nico Gonzales E Kerstovic Mi partono dietro In questo momento A livello di Di scontri Non so se mettere Ken o Bonnì Essenzialmente Perché Bonnì Gioca col Cagliari Dove Può far bene Ken Gioca con L'Empoli Dove sicuramente Può far bene Dite Bonnì Ehm Bella domanda Io c'ho il dubbio Boh Io sostituisco Mi fido di voi Ciazze Se Bonnì mi fa Mi fa Mi fa merda Cazzi vostri Bene Sono in championship Sono in championship Raga E dopo esserci misurati Con il Fulham Anzi E dopo aver avuto Un piccolo assaggino Di Premier League Sfidando e battendo Il Fulham Ora signori Tocca al Tottenham Sedicesimo di finale Di Carabao Andiamo Formazione del Tottenham È un attimo Guardiamola Tottenham che Che cazzo è sta squadra Vicario in porta Dalot Mendy sulle fasce Danilo Romero Poi Abhot E Benna Sera Centrocampo Kulusevski Madison Odobert Darwin Sono un po' confuso Non so perché giochi Abbott al posto di Cassio Zairemery Non so perché giochi Danilo al posto di Stones Non so perché giochi Odobert al posto di Richarlison Ma va bene così Accettiamoli Ma chi di cazzo Gli allenamenti Che perioda di tempo Chi è Abbott Bella domanda Sarà un giovane Da primavera Perché saving È un 68 Va bene per la Ligue 1 Con gli attaccanti Molto più scarsi Ma appena ti confronti Con gente forte Insomma Signore e signori Benvenuti Al Tottenham Hotspur Stadium Stadio che Davvero si chiama così Vero Tottenham Hotspur Stadium Per giocare contro Una Delle Big Six Per l'appunto Il Tottenham Speriamo di far bene Perché Ora Non pretendo di vincere La League Cup Ma almeno far bella figura Dai Ma perché c'è di Lorenzo Doveva stare fuori Vabbè Va bene Fulon a cercare Castor Fuori gioco palese Nunez Anticipa Stain Peters E poi Madison Dentro per Darwin Nunez Oh mio Dio Che voragine Oh mio Dio Che voragine Vai Slonina Palo Non ci voglio credere No Gliel'hanno nata Per fuori gioco Allora Fermi tutti Perché è successo Di tutto Di tutto Allora Darwin Nunez Arriva a 2x2 Con Savin Tenta il pallonetto Savin Va a farfalle La palla Lentamente Si avvicina Al palo Lo colpisce E poi È il momento Del tap in Chi va sul pallone Va ovviamente Darwin Nunez Che però colpisce Kulusevski Kulusevski È oltre La linea del pallone Oltre l'ultimo uomo Fuori gioco Goal annullato Mi sono già giocato Tutto il karma Porca puttana Perdo subito palla Darwin Nunez Darwin Nunez Bravo Biotrowski Maddi Sono dalla bandina Di giocare Ancora Darwin Nunez Stacca in mezzo A tutti Slonina L'accoglie palla Allora vai In contropiede Contropiede Il cazzo Contropiede Darwin Nunez Ancora Che cazzo Ancora Darwin Nunez Non lo tengo Stain Peter Salentissimo Bravo Bravo Slonina Oh ma possiamo Prendere una cazzo Di palla Ogni tanto No dovevi capire Che Kulusevski Era una mia carta Trappola Giocata in posizione Di difesa È una coperta È una coperta Non difesa Come cazzo fai a posizionare Le carte Trappola in difesa Vabbè Raga io la vedo malissimo Sta partita Porca puttana Non prendo un pallone Che sia uno Full on Kastledyne Abbiamo spazio Abbiamo spazio con Lio Ancora Lio Kastledyne Ah la chiusura Di stones Alla fine ha messo in campo La squadra seria Non ha messo le riserve Bastardo Poste Coglu Nuama Buono Per Kastro Dentro da Bloxem Tom Vicario Uscita bassa Peccato In campionato Maluccio Minchia A parte che sono già le 10 Ho giocato 5 partite Per favore Diamoci una mossa Quanto sono lento Ferlan Mendy Buona chiusura nostra Altro contropiede Si alza La linea di difesa Del Tottenham Anche se non si capisce bene Il motivo Nuama Tu per tu con Vicario Patrick Nuama Vicario si oppone Full on Cross Steso Cercare la testa di Grilic Poi ci va Mamma mia Che sfiga Peccato Bella botta Ritrocedere Non retrocedo Quello no Però Più che altro Sapete Cioè E' anche vero Che potrei Tranquillamente Ignorarle Le coppe Concentrarmi Solo sul campionato Perché è l'unica cosa Che effettivamente Mi interessa Giocare Bene Non dico vincere Ma giocare bene Però cazzo Se appare davanti a noi La possibilità di giocare Controquale di Premier Io ci gioco Alex Matos Non riesce a far Filtrare il pallone Tra Ben Nasser E di Lorenzo Ups Kulusevski Per Darwin Nunez Posizione regolare Dell'Uruguaccio Ancora Darwin Nunez Palla per Maddison A tu per tu Con Slonina Miracolo Dello statunitense Rimaniamo sotto Di solo un gol Ma meriteremo Tipo il 5-0 Per loro Agli isoneri Si possono disattivare Quest'anno Giocatori che frignano Boh Non ne ho avuti molti Per ora Quindi forse Hanno sistemato Un po' tutto Matos Sulla sinistra Per Fulon Spazio Il 2 Cercherà il cross Invece no Entrenare di rigore Fulon Ancora Fulon Castrop Castrop dal dischetto Castrop Pareggio Shrewsbury In quel di Londra Siamo 1-1 Pareggiamo Col Tottenham Mamma mia Jens Castrop Matos Castrop Nuama Punta John Stones Chiuso da John Stones Giustamente Odobert Maddison Di ritorno Dall'esterno Con la maglia Numero 20 Gran giocata di Odobert Ne salta 2 Poi Darwin Nunez Stein Peters Eh però Il pallone finisce Ripeti di Maddison Che sfiga Kulusevsky Maddison Ancora Piazza col destro 2-1 Ma una certa Che palle Oh Sti rimpalli Che più che essere Un rimpallo Cioè Rimane lì Ferma la boccia E poi qualcuno Ci corre incontro È diverso Dal rimpallo Fastidioso Uguale Ma è diverso La miseria Vicario Che parata Darwin Nunez Ancora lui Il 32 In area di rigore Bravissimi A chiudere Ma che cazzo dici Ma si è palesemente Buttato Matos è tipo 21-22 Ma palesemente Si è lanciato Ma guardalo Ma dai Ma dai Ma dai Ma dai Che sì 3-1 Tottenham Perché non dovrebbe Avere la 10 Il difensore centrale Gallassico Sì Comunque Darwin Nunez Rottissimo Come giocatore Guardate quanto cazzo è veloce Bravo Slonina Jan Fiete Arp Capisce tutto Stones Full on Per via centrali Matos E vabbè Cazzo Stones è ovunque Ancora Darwin Nunez Madonna È troppo veloce Fermate quell'uomo Ci pensa da solo Bravo Cazzo Danilo Barpalla Ancora Lio Blocco prosciutto Arp Apre Dobbiamo abitare qua Ancora Tottenham Con Kulusevski Kulusevski Nara Kulusevski Calcia Chiude Infermiere Bravo Giorgione Matos Ma cosa facciamo Ma per piacere Bravo Neres Invece Tosta è comunque Cioè ci sta che sia difficile Giocare contro il Tottenham Ma Veramente tosta Per una ragione sola La velocità di Nunez Rispetto a quella dei miei difensori E Stones Vabbè GG Aaaaaah Ottantasettesima volta Che ci ritroviamo a difendere così Contro Nunez Che stavolta Non perdona 4 a 1 E direi che possiamo Anche tornarcene a casa Va bene E 4 a 1 Finisce Mamma mia Che tristezza Raga Però Oh Posso dire Abbiamo lottato L'abbiamo presa Ma abbiamo lottato Bene Signori Ci ripigliamo un attimo Possiamo andare a simulare un paio di partite No Perché siamo lentissimi Cosa abbiamo adesso Le prossime 3 sarebbero Oxford Derby County West Brom E poi QPR Middlesbrough Quasi quasi mi fermo Al 17 ottobre Vittoria contro l'Oxford Bene così Derby County Sento un pareggio Eh 2 a 2 Perfetto E ora Cilleggina sulla torta West Brom Ci batte 3 a 1 Oh Beh dai Due vittorie E un pareggio Regà In tre partite Sette punti Sono tantissimi E poi perdiamo col QPR Vabbè Dettagli Però Sette punti in quattro Per questa squadra Li accetto È alla grande Come mai simulo Sennò non finisco mai più Ste carriere Regà Dai 14esimo posto 13 punti Ci sta Playoff A quanto stanno 16 Eh oddio Sono già lontani A me I playoff Saranno impossibili Da raggiungere Regà Con la squadra Che abbiamo Quest'anno Non ce la faremo Mai Individualmente Come stiamo Andando Non qua Non volevo guardare qua Qua Neanche qua Qua Individualmente Come andiamo Slonina 75 6 goal Per blocco 4 Castrop 3 Matos E 3 Molto bene Poi Nuama 1 e 1 Castledire 1 e 2 Non stiamo segnando Tanto Ma ragà Ma oggi no Ma figuriamoci Sono a Ottobre Valà Figuriamoci Ok Allora Teoricamente Partita contro Il Middlesbrough Ma voglio Guardare una cosa Che stupido Non ho mandato in giro Nessuno Che idiota Vabbè Allora Mandami Lui in Italia Poi Lui in Germania E infine Lui Lo teniamo In Inghilterra Ok Ok Bene Signori È il momento Dell'omboro Mboro 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 Guarda un po' Completa la frase Formazione titolare Siamo tutti quanti Belli carichi Più o meno 3, 2, 1 Vai Scendiamo in campo Vai Tu proponi Se è carino Mi informo E magari lo porto Non lo porto Gli scout Hanno come istruzione Cercare Gente che sta Per svincolarsi E allora Signori Eccoci qui Al New Meadow Pronti ad affrontare La sesta in classifica Il Middlesbrough Ex squadra Di Big Mac Maccarone Io temo che lo scalino Tra le squadre Di mezza Di mezza Di media classifica E quelle di alta classifica In championship Sia enorme Full on A cercare Bloxem Si appoggia Fini Chiusura di Morgan Fini Oh no Ma loro forse Giocano con il mitico Immanuel Latte Latte Che invidia Mano Eh perfetto Posizione assai Interessante Per il destro Di Alex Matos Che va diretto In porta Mi sa di si Tra l'altro sul palo Del portiere Il numero 52 Va Matos Gran botta Palla che non scende Abbastanza Il Middlesbrough Reynolds Morris Fry Philip J Burgzorg Mamma mia Il cattivo Dito ai stori Burgzorg Ancora Nuama Salta l'uomo Patrick Nuama Poi vai da lì O Castledine Largo Sulla sinistra Da full on Solita manovra avvolgente Castledine Piotrowski Riceve palla al limite Carica al destro E calcia Che ciofeca Allora Di base Non sono un grande fan Del wrestling Però ci do un'occhiata Perché se c'è qualche modalità Stupida Tipo con i mio Qualcosa di simile Magari Un videino Ci potrebbe stare Castrop A cercare Nuama Chiude Reynolds Bravo Peters A fottere palla Burgzorg E poi lanciare In verticale Tommaso Blocco prosciutto Peccato Fini Lex di turno Per Silvera Azaz Palla lunga Da Burgzorg Che non aggancia Bene Ah si Middlesbrough Niente no Voglio fare una battuta Mi sono persa Scusa Yes Dovrebbe uscire Tra tipo due settimane Il souls Marino Ma Fulon Ma porca di quella Puttana Sei indecente Sei veramente Indecente Fulon Madagascar Avevo già Ho fatto Madagascar Io ho fatto Madagascar Forse Quello di corse Altro non ho fatto Di Madagascar No Peccato Bene l'idea Leo Castledine Piotrowski Nuama Per via centrali Bravo Patrick Salta un uomo Poi Oh Che ronaccio Del portier Si blocco Voglio un replay Per quello Che ha fatto Il portier Che pepegata Incredibile Che pepegata Incredibile Madagascar Che stupido La lisciata Di brutto Poi bravo Cuba Bravo Nuama Freddo Bloxem Deve soltanto Infilare Ma che gol Del cazzo Questi come cazzo Fanno Essere Sesti Campionato Me lo spiegate Cioè Sono belli Scarsi Disse lui Prendendo palla 8 volte In 2 secondi Burgzorg Proprio lui Burgzorg Slonina in angolo Ecco perché sono Sesti Perché continuano a ottenere Calci di rigore A favore Fulon 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 Azaz Contro Slonina Bravo Gabriel Peccato Peccato Blocco Cosa buona Cosa buona La fa E serve Castledyne Avanza Il 19 Ancora Lì Castledyne In area di rigore Carica al destro Lo piazza Geng in angolo Fulon Palla sul primo palo Bloxem Insomma Grazie Mazzarrata totale Sì Fulon Quello ex Benevento Perché paragoni Goli di Madagascara Michelunziker Perché sono entrambe Belle donne Perché Oltre ad avere La stessa voce No Blocco Peccato Sì È un peccato Il fatto di non poter Tenere traccia Delle crescite varie Perché Cioè Che cazzo di senso ha Aia Che male Nuama Dentro Per blocco prosciutto Blocco prosciutto Cross a cercare Castledyne Chiude la difesa Castledyne Nuama Col destro Fini in angolo Se Claudio Non esistesse Preferiresti stare Con Michelunziker O Gloria Di Madagascar Guarda Michelunziker Perché soldi Full on Palla dentro A cercare Grillic Chiude Jones Matos Castledyne Dal limite Col mancino Centrale per Zheng Eh ma infatti Io penso più A fare Il Toyboy Che ad altro Però Diciamo che si può Anche pensare Ad altro Durante lo Snu Snu Non necessariamente Alla persona Con cui lo stai Facendo Quindi Insomma Ci vogliono due secondi A immaginarsi Gloria Che cazzo sto dicendo Castrop Bel cross Guarda Full on è un buon Giocatore Guarda In real life Non ne ho idea In game Te prego Che cazzo fa Loro portiere Coglione Comunque Liocastledyne Apre per castropa Spazio il tedesco E torna da Cuba Cuba Per Matos Dal limite Matos Col destro Geng Ancora Incredibile Non riesco Non riesco a superarlo In game Io mi ci trovo Malissimo Infatti Avevo intenzione Cederlo Però È tosta È tosta Perché ci guadagnerei Poco o niente Non me ne faccio Nulla di 4 milioni In questo momento In real life È peggio A posto Stiamo Bravo Blocco prosciutto Blocco prosciutto Punta Faye Non lo salta Che è Fry Non Faye Perdona A leggere i fini Mi è venuto in mente Phoenix Wright Vado Che voglia Che avrei di rigiocarmeli tutti Ah Il momento in cui smetto Di streamare Me ne rigioco Per i cazzi miei Quando ho tempo Di farlo Che bello Bravo Peters Angolo Middles Brava A batterlo A Zaz Corto A cercare Reynolds Ancora Zaz Morris Da limite Vinny Sousa Vinny Sousa Fini Fini Per cercare il gol Dell'ex Va dentro Da Conway C'è Slonina Fuori gioco Bene Mamma mia Barbershop Simulator Non so neanche Se sia ancora Reperibile Quel videogioco Lì Buono Fulon dove gioca Irl Tipo al Mechelen In Belgio Mendy Velocissimo Mendy Va dal limite Mendy La traversa Del congolese Ce l'abbiamo ancora Noi In realtà No Che sfiga Arp L'ho preso Tagli svincolati Era in giro Bravo Jan Fiete Arp Recupera Oh Albero Mi ha messo in giro Davanti al pacco Cioè Allora Dopo la partita Ottima cosa Ma durante No Eh vabbè Signori Nonostante le difficoltà Nonostante il golpe Pega Vinciamo 1-0 Tosta sta Championship Sto facendo Fatica No Non ho ancora preso la collection di investigations Ma La prenderò Sicuramente Perché Quelli di investigations Sono titoli che non ho mai giocato Forse avevo provato un pezzo del primo E quindi Mi piacerebbe recuperarli No Basta L'Uvumbo io quest'anno non lo voglio Proprio neanche col telescopio Piotrowski Wow 14 passaggi Cazzo Sei proprio un grande Ok posto Allora 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 Guarda che già Mi tornano con i Ah ma perché Questi qua Ce li avevi già In lista Mandas Regà Sarebbe stato un 76 Sarebbe stato Ah no Lo sapevamo Dorgu si è fermato Eh però È ancora nel vivaio Dai simula Simula No ho sbagliato a cliccare Che palle Perché questo gioca così lento Negli input dei menu Io in realtà Volevo semplicemente Fare vai al risultato Uno a uno Campana Castrop Dai raga Hall City Questa si può giocare Voglio vedere se mi stanno trovando Dei bastardi Gli osservatori Sì Pian piano sì Qualcuno sta arrivando Tipo Festi e Bosele Merda Magari poterlo contattare Festi e Bosele E basta Gli altri non mi interessano Ok Portiamoci dietro Duarte E basta Vai Hall City Contro Shrewsbury Partita che possiamo Provare a giocare Per distanziarci Da quelle dietro Obiettivo di quest'anno Non abbiamo obiettivi Quel che succede Succede Cioè anche in Carabao Siamo arrivati ai sedicesimi Do abbiamo affrontato Il Tottenham E ci ho giocato Ma non perché Volessi passare il turno Ma perché Poter giocare contro il Tottenham Che figo No Vediamo Ecco Diciamo che non ho L'ambizione di salire In Premier Già quest'anno Mi volevo dare 3-4 stagioni 4 servon tutte Mi sa E poi me ne voglio dare Altre 3-4 Per vincere la Champions Non sarà facile Ma ci proveremo Pellumi Parks Per arrocodare Si gira arrocodare Va col destro Slonina in angolo Vonda La bandierina C'è la testa di Jones Impatta bene Slonina Si accascia sul pallone Poi ripartiamo Con Piotrowski Bravo Cuba Per Castrop Castrop Vede partire su Leimano Vecolo qui Imbeccato il 7 A zerla Zero Preso a zero Su Leimano Perde palla Bravo Racioppi Nome clamoroso Racioppi Ma letteralmente il nome Non il portiere Fleming Vaughn Hughes Lawrence Ancora l'or Madò Bel triangolo Che libera Vaughn Sul lato di sinistra È partito il 20 Al limite dell'area Vaughn Bravo Aina Vabbè Comunque è la nostra Mendy È partito Idrissa Mendy Ancora il congolese Inserito nel giocatore Dell'Al City Carica il desto Da lontanissimo Idrissa Mendy Un folle Uno scellerato Un pazzo totale Ma anche un fuori classe Assoluto Idrissa Mendy Da Kinshasa Con furore Ci porta avanti Con l'Al City Un pazzo Un pazzo 17 anni Fuori di testa Completo Questo Guardalo Un pazzo Un folle totale Dritto per dritto Si sposta Poi sul destro Esterno Collo Palla all'incrocio Minchia Buono Ora avanti Cercare di raddoppio Con Castro Palla per Bloxem Bloxem Ancora Mendy Di ritorno da Bloxem Palla sul destro Della nostra punta Mendy 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 È un fenomeno Sono quasi tentato Di far giocare lui E non full on A roccodare Palla all'indietro Per Vaughn Bravi A roccodare ancora Bel destro Fuori Minchia ma due collettini Mica male Entrambi Nati dal Genio Disregolatezza Di Mendy Eccolo qua Ancora Idrissa Mendy Largo Per dan full on Ma io Perché ci provo Alcora Inserire clip Di Carlo Zampa Che urla Vattene via Non ti voglio più Vedere Ecco Grazie Quella Io mi sento così Mi sento molto Carlo Zampa Con Julio Battista In questo momento Attenzione a Coili Il terzino Dell'Alessite Vabbè grazie Rocodare È il secondo Gol di Mendy Questo per noi In stagione È il primo In totale È il secondo Ne aveva già fatto Uno l'anno scorso Tipo in Piston Cup Ancora Idrissa Mendy Col cambio di gioco Cercare Castrop Guarda quanto è preciso Oddio Un po' troppo Forse Von Dentro Dentro per Arocodare A spazio Il numero 14 Per puntare L'area di rigore E far male Rinviene su di lui Aina Ancora Rocodare L'area di rigore Palla dietro Per Bellumi Che sbaglia tutto Vai Scompiti D'italiano Che cosa strana Nei compiti D'italiano Bravo Suleimanov Partito il 7 A 0 L'a 0 Arrivato a 0 Ancora Suleimanov Palla sul mancino Calcia Giro Palla fuori Posso dire Il miglior soprannome Della serie Più di blocco Prosciutto Più di Che amarezza Fulon A 0 L'a 0 Preso a 0 Secondo me Cioè Impareggiabile Gile Avevamo anche Ormai Non gioca più Gile Arocodare Inale arocodare Madonna Che cazzo Di ciofeca Slonina Lungo da Suleimanov Keton Zambrano In campionato Sono a metà classifica Regà Oggi vorrei arrivare Almeno A Metà anno Per poi Finire domani E iniziare la quarta season Settimana prossima Jens Kastrop A cercare dentro la testa Di Suleimanov Prolunga Coil Palla in angolo Full on Palla tesa Cercare Piotrowski Fuori Buona idea Però Oh Hanno fatto entrare Cole Palmer Bello No non è Cole Sarà L'ex L'ex Bristol City Di cui non ricordo il nome Forse Cole No Cole È quello del Chelsea Che stupido A roccodare Lorenz Attenzione Bravissimi Con Agline Matos A strappare il pallone Poi via in contropiede Idrissa Mendy Ancora il 48 Mamma mia Gli manca giusto il passaggio E poi è un fenomeno Casey Palmer Forse sì Bravi Aglina Per Full on Tocca corto Da Mendy Vabbè Dai Ci stava Posta Che è il top scorer Ma che palle sta cosa Che non mi fa i cambi Quando glielo dico io Devo abituarmi ancora Al fatto che i cambi Vadano chiesti Quando la palla Sta uscendo Non quando la palla È uscita Suleimanov La zero Presa a zero Suleimanov Conferma la sua Venera realizzativa Trovando il 3 a 0 Trovando l'ennesimo gol Per lui In pochissime presenze Suleimanov Cioè Non so se ve ne date conto Ma è fenomenale È che ormai Aveva la strada bloccata Da Nuama e Castledine Ma un giocatore così Che tipo in 15 partite giocate Ti fa 7 gol Da 3 quartista Oh Ma non è male Il 3 a 0 Della 0 a 0 Preso a 0 Mamma mia Che bello Matos Aspettiamo la soluzione Di Mendy Eccolo qua Al 48 Bravo Idrissa Mendy Rientra sul destro Mendy In porta Jones Col braccio In angolo E quindi calcio Di rigore Signori Se lo merita Mendy Si merita La doppietta Il congolese Idrissa Mendy A tu per tu Con Raccioppi Rigore impeccabile 4 a 0 Potevo far tirare Anche Arpora Che ci penso Vabbè ormai è tardi E signori Vittoria Roboante Che serve per il morale Arbitro Oi Oi Eh Alla buon'ora Bene Servono ste partite Servono ste partite Servono ste vittorie Porca troia Vincendo due partite Siamo passati Dalla quattordicesima Alla settima posizione E mo' giochiamo Con la quinta Che è il Cardiff Ma subito Regà Ce la faccio A fare novembre Dicembre Ma si dai Se simulo un po' Di partite Ce la faccio Tanto di FA Cup Non dovrei aver partite No No infatti Non ne ho Forse Verso fine dicembre Però dovrò cominciare A simulare un bel po' Vinicius Pallone d'oro E ora signori Partita Che di fatto Ha quasi il sapore Di derby Contro il Cardiff 3-2-1 Si gioca Teoria Che ha scritto Questo commento Fossi l'unica persona Al mondo Dotata di Coscienza E se tu Persona che segui In quel momento Fossi l'unica persona Al mondo Dotata di Coscienza Eh E se noi tutti Fossimo degli NPC In realtà E tu fossi L'unico Dotato di Per l'appunto Coscienza La parola giusta Non lo so Esatto Sull'ipsismo Pog Autocoscienza Ecco la parola Che stiamo cercando Piotrowski Gran palla Per Nuama Dentro Cercare Bloxem A spazio Bloxem Chiude Fish Ma quello È Guglielmo Vesce Grande Will Fish In realtà È una cosa Diversa ancora Dal Truman Show Perché nel Truman Show Sono tutti Dotati di Coscienza Ma Stanno recitando Una parte Perché è tutto Quanto Un gigantesco Reality Con Per l'appunto Truman protagonista Ole 1 a 0 Piotrowski Bravo Cuba Il solipsismo Invece è una cosa Reale Cioè immaginatevi Se davvero Non esistesse Nessun altro Al mondo Se non Voi stessi E tutto quello Che vedete Le altre persone Sia reali Sia tramite lo schermo Quello indifferente Fossero in realtà Dei frammenti Della vostra immaginazione Eh Fico Fulon E le casi Palla in mezzo Cross Un po' Debole Allora lo prende Fulon Che fa qualcosa di buono E poi Matos A lanciare il contropiede Degli Shrews Palla Palla per Leo Castledine Gran giocata Di Matos Castledine Entra sul destro Lo carica Lo fa partire Centrale Per Orvat Cioè che Sono tutti Bot Quella della Dea di internet L'ho sentita Nominare Non mi sono mai Informato Ma raga Ma sono le undici Meno un quarto Di sera Mamma tiè Domani va Va al lavoro Non vedere il cazzo Sì in effetti Uomo numero Tu hai l'aria Di essere un numero Cazzo Pensa che è triste Se per tutto questo tempo Io stessi Cioè avessi parlato Con Bot Non persone vere Ma guarda Non mi stupirebbe Neanche troppo Considerate la quantità Di bot Che gira tra Tipo Twitter Instagram Reddit Cioè Un fatto di bot Discord Castrop In profondità Cercare Nuama Pessima palla Vabbè Uomo numero Non ti preoccupare Cioè finché non vai a scrivere Commenti del tipo Wow Il tuo video Mi ha davvero svoltato La giornata La qualità Dei contenuti Audiovisivi Di questo canale È sempre un toccasana Per il mio Numore Finché non scrivi Queste cose Tranquillo Non ti banno nessuno Ah devi metterci Tipo tre emoji A caso Poi Tipo che ne so Emoji dell'orso Emoji della birra Emoji del cartello stradale Leo Castledine Per Fulon Ancora Fulon Fino in fondo Il 2 Palla indietro Nooo Cuba Camaro Hai scassato la minchia Oggi Ma è normale Regà Ogni video su youtube Appena pubblicato Viene assalto dai botte Così che funziona Minchia Oggi Solo gol brutti La tua live È caldissima Purtroppo succede Nei primi tipo Dieci minuti Dopo la pubblicazione Del video Arrivano un sacco Di commenti Fatti da botte Che hanno Dei nomi generici Spesso Che sembrano tipo I nomi Degli arbitri Di FIFA Che sono Sverosimili Ma non reali Tipo Scarpulla No Scarpulla Non è un cognome Realmente insistente Irl Nel gioco Si Oddio forse esiste Scarpulla Non lo so Però Dai dai Pressing Regà Pressing Siamo in 3 contro 1 Madonna Che rischio Ecco Maria Laura Chiusdano Cioè Tutti i bot hanno nomi di questo tipo Gennaro Scarpulla Maria Laura Chiusdano Sembrano i nomi degli arbitri di FIFA Questi sono i bot di YouTube E nei primi 10 minuti Ti commentano i video Con cose molto generiche Wow Questo è il tuo miglior video Grazie per avermi Rallegrato la giornata Unito a Emoji A cazzo di cane In combinazioni strane E voi direte Ma perché fanno questa cosa? Cioè Quale beneficio ne traggono? Io credo che L'unico beneficio Come Boadu Come Boadu Ah Vabbè Non è lui È quello finto No Invece è lui The fuck L'unico beneficio Che ne traggono Sono magari Quei 2-3 click Di coglionazzi Che vedendo delle tette Nell'immagine profilo Di YouTube Cliccano Su suddetto profilo E poi Cliccano i link Presenti all'interno Di suddetto profilo Cioè È l'unica cosa Che davvero Cioè Però sei coglione Tu vuol dire Che non sai star su internet Lo meriti Il virus Cazzone Cambi Ma guarda Maria Laura Chiusdano È proprio il nome Più da bot Che ci sia Ok dai Va bene così Posto Nuama Con calma Da full on Tocco corto Leo Castledine Castledine Da Bloxam Tom Bloxam 2-0 Buona azione nostra Però la palle Rimarrà esilarante Per sempre Quando Quando Claudia Vuole farmi ridere Mi guarda E semplicemente Con Fare monotono Mi fa Palle Sempre divertente Scora Spalla dentro Per Boadu Boadu Tu per tu Con Mamma mia Sì Wolfenden Idou Tocco per Jan Fietearp Che apra Le cerche di Drissam Mendy Colpetto Pallo Ma come Certo che non abbiamo Nulla da fare Nella vita E Riman Soprattutto in live Daland Cioè Erling Con il Raffreddore Bravo Peters Che cazzo Hai fischiato Ma perché Ma lasciami andare Turbo Cazzone Vabbè Idrissa Mendy Peccato Regà è un fenomeno È un fenomeno Idrissa È un fenomeno Idrissa Mendy Finta di tiro Lascialo sul posto Ancora Oh Peccato Chambers Turnbull Verticale Da Boadu Ma che cazzo Guarda c'ha Sto Cardiff Jordan Shipley Lungo Il pallone A cercare Tommaso Blocco Prosciutto Rallenta Blocco Prosciutto L'appoggio Corto Da Mendy No Oppala No Giuro Non era fallo Bastardo Siamo tipo a novembre Regà Inizio novembre Da qua A fine live Voglio fare ancora Circa dieci partite Ma signori Intanto Vittoria 2-0 Sul Cardiff Buono Perché il Cardiff È settimo Regà Siamo Mi sa In zona Playoff Più o meno Clamorosamente Merda Addirittura Quarti A A A A meno Uno Dallo Swansea Secondo A Parte 2 Sì beh C'è anche da dire Che con Tre punti in meno Saremmo tipo Dodicesimi Però vabbè E a questo punto Comincerei a simularne Qualcuna in più Sapete Tipo questa Con la pipi squad Pipi 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 Grazie Impero Per il Royce Di Donation Un bacione Bello Ah Simo 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 Peccato che tu Non mi serva Ma Saresti perfetto Per questo modulo Per questo modulo Per questo modulo Per questo modulo Questo Aronson È molto buono Ma non è manco in scadenza Quindi cosa minchia si è fumato Ah no vedi Mi ritrovi quelli in scadenza Non capisco un cazzo Idris El Misuni Madò regà Ma Sengove lo ricordate Era il capitano della mia carriera Con il Bristol City su FIFA 22 Bello Spenso in scadenza vi dirò Se effettivamente va in scadenza Non male Va bene Vai 3, 2, 1 Simulazione Da adesso in poi un paio di partite Ecco A partire da questa qui con il Preston Mi sa che le prossime le vado a simulare Lente Ma le vado a simulare O si gioca con una top 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 Oppure stiamo fermi Se no davvero la stagione non la finiamo più L'Escargot Era la squadra che abbiamo usato Su FIFA 22 in Francia Yes FIFA 23 forse No 22 23 c'è stato il Pepe G Ma questo vuol dire che non ho mai fatto una carriera seria in Francia Eh Ah Buona sapersi Perché Ci sarebbe una certa terza squadra di Parigi Il Red Star Da prendere Far diventare più forte Sia del Paris Che del Paris Saint Germain Eh Eh Potrebbe essere Cioè scontata a merda Ma carina Cold del Preston Con Stewart Eh no eh Penso di sì Briosco Devo ancora A meglio In realtà Io il piano ce l'ho già perfettamente delineato in mente Ne devo semplicemente parlare Ma lo farò A breve E la madonna Davvero il Palermo ne ha presi 5 dal Napoli Inchia No Tom Eh sì Tripletta d'ingong Eh no Doppietta Poi con Jesus Nere Semectomini Allora Il motivo per cui ho dato a Peters e Grillich Rispettivamente la 10 e la 11 È molto semplice Grillich la 11 La indossa Peters alla 10 Perché era il primo numero libero disponibile E mi faceva ridere il difensore centrale con la 10 Fine Non c'è un'altra ragione Oh no Oh no Pessime maglie Vai Fulon Però ci si mette anche la sfiga Povero Fulon Grande intervento di story Fordarson McCann Vabbè raga Se no non finiamo più Vai torniamo a simulazione No come infortunio a Peters Dove anche fare dei cambi Fermi Vabbè raga Fallo Vai 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 Calcio d'angolo Ragazzi Fatemi qualcosa di buono Sì Luke Wolfenden Primo gol per lui Con la maglia Dello Shrewsbury Town Forse secondo Sì secondo Ne ha fatto uno l'anno scorso Però bravo Luke Dai col secondo Dai col secondo Sì Do Sì Do Noi Do Fiate Arp Noi Do Così si è mangiato Cazzone Maledetto Perché ho scelto Bloxem come capitano Perché È Uno Un po' l'uomo simbolo della squadra Due È quello che guida più tempo Dai doppietta di Wolfenden Doppietta di Wolfenden Che cazzo è? Eh vabbè signori Uno a uno col Preston Va bene così Minchia con un pareggio passiamo dal terzo posto al settimo Quanto cacchio è chiuso sto campionato Luton dodicesimo a 21 Noi settimi a 24 Ma si simuliamo anche questa Anzi no Allora vediamo le prossime partite come sono messe Le prossime partite sono Orca puttana Luton Coventry Huddersfield Burnley Barnsley Bristol City Birmingham Swansea Ipswich Hull E Middleborough Ho dimenticato un S Però va bene Allora considerato che mi voglio fermare al primo di gennaio Io qui potrei giocare Il Burnley E vedendo l'orario forse vi direi Giusto perché vorrei giocarle io a queste partite Il Bristol City E poi credo l'Ipswich Quindi le altre del simulolente In che senso Slonina e via Cioè vuoi dirmi che la championship Non si ferma per le pause nazionali? Oh Che stupido Ho fatto simulazione veloce Non volevo Vabbè Uno a uno anche con Luton Ma sai ma se non si ferma la serie C Mi sta anche bene Ma figa la B Si ferma in Italia perché qua no Ah vabbè signori Shrewsbury Coventry Andiamo a gasare i miei Ok Welcome everyone We'll start with the questions now Please Thank you Mamma mia ma loro c'hanno Vanewijk Vanewijk regà sarebbe un giocatore clamoroso da prendere per sta squadra Mi sa tanto che in editing sta parte Marco Scusate mi do degli appunti all'editor in metà live So che è poco bello da vedere ma si fa Dopo aver detto che avrei giocato tipo quelle tre partite Magari intervengo e dico Ah ok sono finite XYZ Con questi risultati E poi Magari faccio vedere gli highlights delle altre tre Per mostrare la classifica alla fine Fico eh Fico Scusatevi Cringe me ne rendo conto Ma ogni tanto è comodo Perché se no mi dimentico di farlo Mentre Poi gli vado a dare tutte le indicazioni All'interno di un documento Quindi se lo dico qua lui lo sente almeno Ma loro c'hanno Jay da Silva in campo E' quel da Silva che mi ha fatto tipo il terzino di riserva E titolare per un paio di anni Ha il più utile sul FIFA 23 Possibile Ma guarda Anche se fai meno di 48 Fanne tipo Tre e mezza Allora La domanda Tier vuoi bene la tua community Mi mette più in difficoltà di quanto possiate pensare Perché Cioè Sì Ma come entità Non come singoli In che senso Nel senso che community Come chat E' normale che io sia affezionato a voi Ma E ci siamo fatta per un paio di Casi di persone Che effettivamente conosco Anche Irl Non sono affezionato a te Nel singolo Sono affezionato a voi come community Nella sua interezza Gol del Coventry con Vaneva E' bastardo Comunque sì Mi rendo conto Che sia forse un discorso un po' bruttino da fare Ma è la verità Ma questo vale per me Così come vale per qualsiasi altro creator Cioè Noi non abbiamo idea di chi voi siate Individuo per individuo Però Bene o male Sappiamo Come la community In generale Mediamente E' fatta E Qual è il punto di vista Che la community ha In merito a Argomento A B o C Per quello vi dico che Anche quando siamo in live Bravo Bloxam Io non interagisco con Persona A Persona B Persona C Io interagisco con La chat La chat è una cosa unica Siete un agglomerato di persone Ecco Avete presente Wishiwashi Il Pokémon di settima gen Perfetto Io non voglio bene Al singolo pesciolino Voglio bene Alla forma banco Voglio bene Alla Agglomerato Quello si A quello sono affezionato Al singolo individuo Eccezione fatta per Alcune persone che Conosco No È un po' triste Ma è la verità Cioè nel senso Sarebbe Più sbagliato Dirvi il contrario Sarebbe molto più Parasociale Fare il No ragazzi Siete la mia famiglia Non fa per me Non sono fatto così Sapete che mi piace Tanto tenere il distacco Tra Le due parti Ma non perché Io mi senta Chissà chi Ma è per il semplice fatto Che io non conosco voi Voi non conoscete me E deve essere un cuscinetto Di sicurezza Per entrambi i lati Per me Ma anche per voi Credo che faccia anche bene Sentirsela dire Una roba del genere Ogni tanto Contando che Mediamente la risposta Siete la mia famiglia Cazzo Datevi un brofist Però Cioè Io voglio che questa cosa Venga vissuta in maniera Salutare E sana Da parte di tutti Essere consapevoli Del fatto che Tearless l'intrattenitore Non è Tearless la persona Cioè sì In realtà sono un coglione Uguale Però Il fatto che voi Seguiate Ciò che faccio online Non vuol dire Che mi conosciate Anche come persona Come individuo Perché io Faccio trasparire Quello che voglio In positivo In negativo I miei lati positivi I miei lati negativi Insomma La mia Le parti belle Della mia personalità E ciò che mi rende Una persona di merda Sono io che lascio Trasparire ciò che voglio Io potrei sembrare È il motivo per cui Secondo me Tanti Creator Vengono inizialmente Messi su un piedistallo E poi Combinano una qualche Cazzata E vengono cancellati È proprio perché Si vanno a creare Un'immagine Assolutamente Irrealistica E per niente Accurata Diciamo Della propria persona E grazie intanto Federico Per i due eroi Un bacione Thank you Bello Bois Possiamo fare La puttanata del secolo Fermi tutti Dove sei? Ti ho visto Dove sei? Dove sei? Festi e Bosele Giocatori in scadenza Con l'Udinese Proviamo a fare Sta cosa Scambio giocatori Centrocampisti No Ali Fra Lo vuoi Fulon Proprio Scambio secco Udinese Vaffanculo Vaffanculo Fulon E grazie Sia a Federico Che ad Adri Per i Per i due Eroi Di Donation Vuole giocatore Importante Perfetto Spero non chieda Una valangata Di stipendio Al bro Ehi Il bro Ciao bro Come stai bro Ah vabbè Ma posso darti Un fottio bro Allora siamo a posto Bro Tieni bro Ok bro Così è un po' Troppo bro Rimuovi il bonus Bro Che ne dici Di questa Somma di Danaro Qua bro Dai bro Dai bro 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 letteralmente Finito i soldi Bro Devi accettare Bro 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 Poi rinunciare A 500 euro Settimana Dai bro Ti do i soldi Che vuoi qui Ma poi Prendi quello Che ti dico io Come bonus Bravo bro Sì Festi e Bosele Arriverà a gennaio Però Dai almeno Ci siamo levati Dal cazzo Full on Non lo sopportavo più Sì è vero Forse l'ho strapagato Conveniva Vendere Full on Prendere Bosele Va bene Uguale Oddio Quasi potevo puntare Spensi In realtà No ma va ben così Dai Non mi pento Della scelta fatta Vero 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 Salvatore Rosa Spruzzi Manca come l'ossigeno Nello spazio Beh allora Meglio che non ci sia No Mamma mia Festi e Bosele Va bene signori Però E Bosele arriverà Tra un mesetto Torniamo a simulare Questa la posso anche Simulare veloce Dai Laddersfield È 22esimo Che cazzo faccio Muovidi Perché full on È così odiato Ah guardate Io lo odio Unicamente Per come performa Su questo gioco Fa cagare 2 a 1 Piotrovski Castledine Bene Al di fuori Di ciò che combina Su FC 25 Non so perché Minchia ma davvero Il Burnley Ma davvero Il Burnley È dodicesimo Com'è possibile In realtà Va bene così In realtà Va bene così Meglio per noi Come detto Questa La voglio giocare Però Ho dei giocatori Belli cotti Va bene 3 2 1 Andiamo Al New Meadow Certo che lo ricordo Il Benevento Il Benevento Indimenticabile Per più ragioni La principale Alberto Brignoli Splendori Buonasera E benvenuti Al New Meadow Dove oggi Affrontiamo Il Burnley Squadra che sta Performando peggio Del previsto Apparentemente Chissà perché Contando anche I giocatori che ha Non dovrebbe Ma va bene uguale Attenzione Parta subito Forte il Burnley Con Burkhardt Sul lato di sinistra Palla dentro Per massa in gola Appoggio da Denki Bravo Slonina Slonina è partito piano Ma adesso si sta Ripigliando da grande Ora Castledine in profondità Cercare Tommaso Blocco Vabbè bello Bravo Allora I commenti sotto i video Li leggo anche Sì sì Spesso però Tipo nella prima Oretta e mezza Quando esce Poi la sera Quando Ho finito la live Basta Difficilmente torno Tipo tre giorni dopo A guardare i commenti Sotto un video A meno che Non sia un video Dove Avevo chiesto Di scrivermi Qualcosa di specifico Nei commenti Mendy Palla per Castro Più impreciso Un attimino Il lancio Del congolese Ancora Trissa Mendy Massa in go A lanciare Denki Cue the nurse Roberts Pressing the blocks And Warhol Bel giocatore Warhol Per la Per la Championship Bravo Alex Matos Palla di Morchio Per Idrissa Ho dimenticato Il cognome Mendy Mendy Castledine Mendy Piotrowski Castrop Piotrowski Eh Tom Blox In mezzo a quattro Cerca il VAR Che poi serve Castrop Di ritorno Da Blox Pessimo stop Claudio Ramos Non conosco Claudio Ramos Ma Actually Non può essere Claudio Bizio Claudio Bizio Non fa il calciatore Burkhart Brownhill Bravo Sleonina Come mai dalla C Inglese Volevo provare Una serie un po' Diversa Bravo Castrop Va a cercare in avanti Bloxham Bloxham Rallenta Castledine Per Fulon Minciamo un rimpallo Fulon in area Fulon con la punta Bloxham Ancora Claudio Ramos Oppia parata Incredibile Alex Matos Palla tesa Sul secondo palo Non c'è nessuno La mette fuori Burkhart Raccoglie Bloxham Piotrowski Castrop Matos Prova a crearsi lo spazio Non lo trova Piotrowski Gran palla per Castrop Capisce tutto Massengou Che intercette Poi riparte Con l'aiuto Di Ramsey In verticale da Burkhart Cioè palla al 14 Nonostante il tocco Di Luca Iina Ancora Burkhart Mettilo giù Pulito Ma no dai Ho preso la palla Era una scivolata Avvolgente Anche nel farlo L'ho toccato Punizione battuta Corta dal Burnley Denki Ancora il Togolese Kevin Denki Palla per Benson Si gira Benson Palla bassa Per Burkhart Solo negli due tempi Wolffenden Per Fulon Passaggio illuminato Di Dan Fulon Non volevo mai Darla a lui Ma bella Ploxem Oh deviato Che cazzo di palla Fulon Matos Cross Abbastanza buono In mezzo Per Wolffenden Palla alta Qual è il derby Più bello Della Gran Bretagna 15 Gran Bretagna Celtic Rangers Mi attesta Ha un Un fascino Incredibile Che va ben oltre Le rivalità Tra Che ne so Chelsea Tottenham Arsenal Tottenham Chelsea E Arsenal Ha Ha il suo Gran fascino Secondo me No non London Derry Derry No no Quello no Anche perché Il Derry gioca In Irlanda Quindi Piotrowski Mendy Eh non trova Il VAR Quello spazio Boh Mi ispiravo Allo Shrewsbury Comunque Volevo partire O dalla serie C O dalla serie D Inglese Partire dalla serie D Non lo so Mi 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 ispirava Di meno Perché non avrei avuto Rischi In alcun modo Anche in caso Di pessima Prima stagione Invece immaginatevi Lo scenano In cui retrocedo Al primo anno E sono costretto A fare la scalata League 2 League 1 Championship Premier In tre stagioni Quello gran figata Secondo me Mi piaceva La possibilità Di vedere Una cosa del genere Però Boh Si O C O D Inglese Lo Shrewsbury La squadra Cavallo e Maglia Che mi piacevano Di più E' una delle squadre Più scarse Teoricamente Sulla carta Del campionato I mean Why not Leo Castledine Cerca Idrissamendi Te viene Ok Buono Ce l'abbiamo noi Cuba Piotrowski Castrop Servito da Jakub Piotrowski Ancora Castrop Sull'auto di destra Prova a puntare Eric E ce l'ha Fata Andar via in velocità Cross in mezzo Cercare Blox E mi chiude Warhol Mendy Ce l'ha un loro Peccato Brownill Denki Gran giocato di Denki Che passa in mezzo a due Entra nel rigore Numero dieci Togolese Ancora Denki Col destro Slonina Mostruoso Dici che vanno lì Per menarsi Il calcio Passa in secondo piano Bello Bello Un normale Sabato pomeriggio Bravo Fulon Manda un attimino Al bar Robert Che però è molto più veloce Quindi lo recupera Fulon Rallenta Oddio Cioè Continua ad andare normale In realtà Mendy Con lo scatto Prova entra in area C'è la fai Idrissa Mendy 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 Un fenomeno Idrissa Mendy Porta avanti Lo Shrewsville Il 66esimo Iniziativa personale Del 48 Che davvero Semina il caos Il panico Nella difesa Del Burnley E a tu per tu Con Claudio Ramos Non sbaglia Insacca col destro La favola Dello Shrewsville Continua No no Ma l'avevo ben capito Che lo fosse Non ti preoccupare Però non sapevo Come rispondere Sinceramente Non volevo dire cose Troppo brutte Penson In area di rigore Il 33 Su di lui Aina Occhio che rischia Un po' troppo Buono Bravo Fulon Ha fatto una cosa buona Da prima della stagione Castledine Per blocco prosciutto Tom 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 un po' Un po' è Ah Giusto un po' Stanche alcuni Vedo Brownill Per Roberts Massengo Esteve Ultimi 15 minuti Prova il Burnley A costruire qualcosa Alla ricerca Di un pareggio Che forse sarebbe anche meritato Brownill Denki Servito proprio dal numero 8 Da Burkhardt Burkhardt col destro Spara altissimo Pirla Ah tranquilli Fulon Dobbiamo aspettare Giusto un altro mese Poi ce lo arriviamo Dal cazzo Fulon Idowu Eh Chiuso a Warren Giustamente Figa Ma questi C'hanno Minté E l'hanno comprato Per 45 milioni In championship E poi c'ero io Con i miei 7 milioni Brutto fallo Allora Tanto Tirare da qua Non serve a niente Ma Tentar non cuoce Matos Uuuuh Yakuba minté Sul lato di destra Prova a fermarlo Nurse Non ce la fa Allora Iina Corre in aiuto Salta anche lui Minté Minté Gran chiusura Di Wolfe Mamma mia Slonina Sei un fenomeno Sei un fenomeno E poi Castro Si uccide sul palo Brownie Dalla bandierina Palla in mezzo La mette fuori Fulon Pallone ribattuto Ancora tre metti di Brownie Minté 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 Per Ramsey Ramsey Chiude Castrop Teniamola lì Teniamola lì Teniamola lì È finita È finita È finita È finita Ha battuto il Burnley Con un gol Strepitoso Di Drissam Quindi Tre punti d'oro Regà Tre punti d'oro Che ci tengono Devono ancora giocare Vero no? Perché tutti zanno a zero Non credo Eh però guarda che Però guarda che bella Annata Cazzo Regà Mamma mia L'unica squadra Che ci può agganciare È il Norwich Per ora Ma siamo a meno due Dal Middlesbrough Secondo E potenzialmente a meno nove Dal Leeds Che fa un campionato a parte Non lo contiamo neanche Merda però Che figo Ok E quindi ora Simuliamo Fino al Bristol Ah vabbè C'è giusto il Barsley Ok Perché ho preso full on Costava poco Ed era ottimo Per quel ruolo Barsley Ventunesimo Dai Questa la perdiamo E noi mi pare Due a due Ovviamente E ora lo so Che ha poco senso Sulla carta A giocare Contro quella Che è la sedicesima In classifica Ma permettetemela Sta partita Perché è un piccolo Derby personale Io col Bristol Feci una carriera Su FIFA 22 Ed è ad oggi Ancora una di quelle Che più mi sono piaciute Di quella squadra Non hanno letteralmente Nessuno Forse c'è Viner Perché Viner Me lo ricordo C'è ancora Naki Wells Gli altri Sono tutti nuovi Vediamo di La maglia giusta Allora signori 9 dicembre Scendiamo in campo Effettivamente è un Un tipo di Combo di colori Anche di tipo di maglia Molto usato Questo Tipo azzurro Granata Eh però Sono bellini Molto classico Saranno colori Abbastanza diffusi Nella nobiltà inglese O comunque Nella storia inglese Perché se non si spiegherebbe Altrimenti Tutto s'utilizzo Anche in parti diverse Del Del paese Perché comunque Ok la Stoneville A Birmingham Hai il West Ham A Londra Hai il Burnley Mi sembra vicino A Manchester Quindi sono tre zone Tutto sommato Diverse Intanto signori Nevica il New Meadow Sono già passati Sette minuti E ancora Zero opportunità Castrop Vincere in pallo In area Jens Castrop Gran parata Di Bajic Matos Buona palla Cercare Florian Grillic Che colpisce Ma manda alto Castledine Per Nuama A spazio il 20 Prende la mira E calcia Ribatte Bloxham Idiota Povero Tom Viner Bueno Armstrong Pressing di Wolfenden Che permette A Nuama Di recuperare palla Allora Castrop Sull'auto di destra Davanti a Bueno Gioco di gambe Gli va via Castrop Cross sul secondo palo A cercare full on Ovviamente Matos Bloxham Salta l'uomo Tom Bloxham Gran sterzata Del 18 Non so come mai Stesse dormendo Il loro difensore Ma va bene così Clamorosa Pietro Bello Bell'accrocchio Di team Bravo Matos Col colpo di testa Ma Cioè Chi è che ha dormito Lì? Madò Che nanna pesante Oh Che nanna pesante Di Viner McNally Altra vecchia Conoscenza Per me Dato che è stato Uno dei miei Difensori centrali Nella carriera Con Lushamrock Rovers Ottimo Pressing Piotrovski Ruba palla Viner Che sta dormendo In questa partita Nuama Arriva Liduba Il pallone Nuama Tu per tu Colporti E Spinge Bayic E Blox Mè lì Per il Tapin 2 a 0 Ma no Peggio di Inzaghi Blox Mè comunque Tapin Merchant Proprio Ah Non ho fatto Risultanza Blocco Prosciutto Bravo Matos Ah Vai Cado Vado Quanto cazzo Corre Matos Regà Acquistone Alex Matos Bravo Nuama Nuama Dentro Cercare Blox Blox Porca Puttana Stein Peters Davanti A cercare Blox Tom Tom Per la tripletta Col mancino Traversa Di Tom Nuama Castledine Per Alex Matos Matos Da Blox Col mancino La tripletta Di Tommaso Blocco Prosciutto E siamo Sul 3 a 0 Mamma mia Che groviera La difesa Del Bristol Comunque Marò Comunque Matos Acquistone Cioè Matos Punto Fisso E avere Il centrocampo Piotrovski Kastrop Buono Per Nuama Nuama Dentro Ancora Per Tommaso Blocco Prosciutto Salta L'uomo Col mancino Blocco Prosciutto E sono 4 in 37 Minuti Mio Dio On fire Oggi Il capitano Quanto ha di ovvero Il portiere Il mio o loro Il loro Magari è anche Abbastanza buono Però non ha la difesa Matos Matos Il pallone Ribattuto Kastrop Cercare Full on McRory Kastrop Ancora lui Entra in area L'appoggio Su questo palo Da Tom Blocks E sono addirittura 5 Il pocherissimo Prima del riposo E la madonna No ma Cioè È la squadra Più facile Che abbia Cioè Allora La partita Più facile Della carriera Finora Tonno Che si rompe Con un grissino Il burro Avvicinato Da un coltello Caldo Questa è la difesa Del Bristol Ma guardali Ma guardali Cioè Non è normale Ne ho 3 attorno Che è successo Niente Si è bloccato Tom Vabbè Ma a questo punto Cioè Lo so che potrei Schippare Alla fine Ma lasciatemi divertire Fatemene fare 10 Kastledine Fulano Gli porta via l'uomo Loro ancora Kastledine Nuama Piotrowski Leo Kastledine Dal limite Prende la mire Calcia col mancino Traverso Tom Però è una certa Che è culo Anche Blocco prosciutto Comunque Ho sempre Nel posto giusto Al momento giusto Vuol dire Anche quello Sì è vero Famo cambi Dai Vai Armstrong Armstrong In mezzo a 4 Gli rubiamo palla Stein Peters Per Nuama Avanti a cercare il settimo Nuama da Bloxem Quasi Bravo Nuama Piotrowski Palla lunga Cercare Castorp Chiude Viner Con una bella sforbiciata Knight Allora Voglio vedere se riesco a fare il settimo Entro No Il 6 a 1 no Maiulù Perché mi hai dovuto rovinare tutto Maiulù Voglio vedere tipo entro il settantesimo Se riesco a fare il settimo Quindi altri 10 uniti di game Realisticamente ce la faccio a mo' Guardalo Vai Tom Per la storia 7 gol di una partita Dubito gli abbia mai fatti qualcuno in championship Ed è il primo Tom Bloxem Blocco Brusciuttati Va bene Direi che possiamo anche chiuderla No la partita Avanza alla fine Non segniamo più Ma va bene così Minchia asfaltati Poverini 7 a 1 7 a 1 con 7 gol di Bloxem A quanti gol sta in campionato mo' A 17 Di questi 17 7 li ha fatti in sta partita qui Eh vabbè Va bene No saving Saving ti prego Il tuo posto di squadra Non è a rischio per davvero Te lo giuro Fra Actuali non ho soldi Per rinnovargli il contratto E ora come detto Per concludere la serata Direi di Giocare con Lipswitch E simulare le altre 4 Vai di cattiveria Schippa Il Birmingham E lo Swansea Prima col Birmingham Dai che la vinciamo Bravi 2-0 Mentre la seconda Contro i Gallesi Dello Swansea Oh Sì sì Faccio l'ultima partita Simulo le altre due Facciamo arrivare Bosele E poi stacco E allora signori Ultima partita di serata Contro Lipswitch Attualmente Nono Noi stiamo al quarto posto Clamorosamente A meno 3 Dal lead Secondo A meno 2 Dal coventri terzo Col Middlesbrough Più 7 Vabbè Effettivamente Anch'io Non mi aspettavo Che potesse andare Così tanto bene In championship Però La squadra c'è Dai Obiettivamente Guardate che Cioè È un'ottima squadra Per la championship L'unica zona Un attimino È tipo Peter Spiotrowski Nuama Ma loro Se la cavano Tutto sommato Questa squadra Non è malaccio Per la championship Certo Magari Non da quarto posto È lotta promozione Però Da metà classifica Sì Se guardiamo gli overall Ci sta Ho sbagliato Ho fatto incazzare Giorgio Dai E quindi Splendori Andiamo da Non è Ivy Lane Però vabbè Signori È il momento Dell'ultima partita Di serata Contro l'Ipswich Ipswich Che tra parentesi C'è tipo Lo sponsor Più bello Dell'anno Che è Cioè Lo sponsor dell'Ipswich C'è Ed Sheeran Sì Magari Qualche partitina Difficoltà Leggenda Per testare Non sarebbe Male Ma magari Testo Per i cazzi Miei Non dico Nel weekend Se riesco Domani pomeriggio Pensione subito D-Lap 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 Slonina Sono i portieri Che sono P Perché allora A dirla tutta In realtà Non è così Sballata La difficoltà È che I portieri Sono davvero Forti Cioè Il mio portiere È troppo P Disse Prendendo Golda Graves Perfetto Una 0 Ipswich Comunque sì Farò 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 Dei test Per vedere Com'è La difficoltà Leggenda Vediamo Se mi trovo Un po' Meglio Più che altro Perché Il portiere Tuo Cioè Quello del giocatore È molto più forte Quello dell'avversario Può anche essere Che sia più forte Perché Slonina Comunque È forte Chi lo sa Matos Castledine Per Fulon La mette giù Dan Fulon Calcia col mancino Muric In due tempi Comunque C'era Allora La balla Madò Tuanzebe Muric In porta Dilop Davanti Questa è una squadra Da premere Patrick Nuama Chiuso da Pavi C'era la Dilop A cercare Chaplin Clark Sull'auto di sinistra Il 47 Buono Per ora Sto giocando Da campione Però ripeto Devo capire Un attimino Come va Giusto per farmi Un'idea Quali sono Gli overall Dell'ipswitch 78 75 80 78 Ma guardate che non siamo così lontani Dall'ipswitch È come overall Medio Forse leggermente più basso Addirittura Quindi Who knows Magari ci sta Che io me la possa Lottare Per queste posizioni D'altronde Nel non lo posso Sarà tipo A meno 3 Da noi Quindi non siamo Così distanti Alla fine Attenzione Dilop Vicino al 2 a 0 Non lo so Devo ancora capire bene La difficoltà Magari Non è tanto Una questione Di difficoltà Quanto più di Slider Del portiere Perché concedo Un botto di occasioni Maslonina E adesso Save in prima Fenomenali Vabbè Comunque Cioè Full on Capacità di cross No Pro club No Non ci gioco Ma perché Non ho amici Cioè Volevo dire Assolutamente Vero Attenzione Nell'errore Di Zagadou Che torna Da murici Il pressing Di Matos Costretto a rilanciare Il portier Bravissimo Adesso Castrop Di destra Castledine Peccato Pavic Il regista Dell'Ipswich Largo Buono così Castledine Matos Sventagliato A cercare Castrop Un po' troppo Forte Però bella L'idea D-lap Fuorigioco Buono Può essere Mario Però Io mi aspettavo Una metà classifica Anche quest'anno Stare quarti A meno tre Dalla zona Promozione diretta È tanto Però A metà campionato Quasi Mano Se sei giusto Poi sarà divertente In Premier Regà Non so se avete visto Quanto ci ha aperto il culo Il Tottenham Io ho paura che in Premier Sia così contro tutti O quasi Errore di Florian Grilic Bravo Che recupera però Subito Al suo stesso Mistake Castledine Per Bloxham Blocco prosciutto In area di rigore Salta due persone Si appoggia da full on Lio Castledine Per Piotrowski Montava il Varco Il numero 21 Allora Castledine Per full on Ancora Full on Retropassaggio Bloxham Col destro La va a deviare Un difensore Dell'Ipswich Allora Ultimo calcio d'angolo Prima Del riposo Alex Matos Sul pallone Teso La tesa del dischetto Florian Grilic Chiude Taylor Peters Di testa Grilic ancora Peccato Va bene Non lo so Mi piacerebbe Tenere la difesa a tre Perché io A me piace L'idea della difesa a tre Ok Sarà Che sono stronzo Ma credo che ti permetta Di coprire il campo Nella maniera ideale Un 3-5-2 Che però poi diventa fluido Mentre giochi Per me Boh A me piace molto Però su sto gioco Minchia fa schifo La difesa a tre Cos'ha fischiato Ma sei stronzo Ma sei stronzo Ho fatto un gol Della madonna Con blocco prosciutto Comunque A me concettualmente Anche Irl La difesa a tre Piace un botto Perché Pare Sulla carta Tu a zero D-lap Oh Slonina Pare essere il modulo Che copre meglio Tutte quante le porzioni Di campo Dato che non si parla più Di modulo Ma di occupazione Di spazi Idealmente Diciamo Una squadra schierata A tre Ti copre bene tutto Tre barra cinque Fluido Che diventa Qua Insomma Vabbè Vaffanculo No Però su FIFA Funzionano sempre male Sti moduli Quindi mi piacerebbe Prima o poi Riuscire a fare una cadera Fino in fondo Con la difesa a tre Senza perci rinunciare Castrop Bloxem Muric Da Tuanzebe Pavic Chaplin Trequartista Dell'Ipsic Va a cercare Di testa La sponda Che finisce Da Castrop Wolfenden Lexi turno Che fa ripartire L'azione Matos Supera la metacamp Per verticalizza L'improvviso C'è Pavic Però sul pallone Taylor Hutchinson Ancora Taylor Il pressing Non porta da nessuna parte Allora dovrò fare dei cambi Grazie Dennis Per il tredicesimo Attenzione Palla per D D D D D Pato per tu Con Slonina Si fa ipnotizzare Di nuovo Da Slonina Farei mai una tirista Le maglie dei portieri Ma allora Dennis Intanto grazie per il tredicesimo Bentornato Se la faccio La faccio in live Un po' come ben detto Con gli altri campionati Europei Perché altri video Non mi va di farli Semplicemente Però il problema Delle maglie dei portieri È che spesso Ormai I big brands Le fanno uguali Per tutti Cioè fanno una maglia Da portiere E la danno a tutte le squadre E quello è un peccato Perché hanno tutte Pochissimo carattere Poi Quindi Ne fai vedere Quattro di maglie Hai fatto in realtà Fai Puma Fai Adidas Fai Nike E poi magari Qualche marca particolare Che te le fa diverse Di squadra in squadra Però Attenzione a Clark Eh Sbaglia anche lui Incredibile Però capite Cazzo Cioè Io di opportunità Ne concedo comunque E non poche Sono gli avversari Che se le mangiano Di brutto Jordan Shipley Per Jan Fiete Arp Largo da Castro Pinare al numero 8 Jens Castro Ancora toperto con Muric Calcia con l'esterno Respinge l'estremo difensore Dell'Ipswich Allora Alex Matos Arp Ancora per Castro Dove cazzo è andato Arp? Bravo Jan Fiete Arp Tocca corto da Castro Palone che ritorna dal numero 9 In mezzo a 3 Non passa Peccato Ma allora Perché fischi Se la palla ce l'hanno loro Penso sia mia Vabbè Fatemi fare un cambio Fatemi mettere Arp Accanto a Bloxem Ok Bravo Tom Bloxem A recuperare palla Ancora Tom Tom Dentro per Castro Ptai che sei da solo Jens Jens Costito a rallentare Palla sul mancino Calcia in porta Però lo fa fuori In realtà Non calcia in porta Aiuto No no Beh allora Video non ne faccio più Sulle tier list È stato divertente Le ho fatte Eh va fine Tom Mamma mia Ottantottesimo minuto Siamo ancora sotto Lipsic avrebbe meritato Quanto meno un secondo gol Se non addirittura un terzo Ma a noi Un gol Non sarebbe Meglio Ma un gol per noi Non sarebbe così sbagliato Minuti di recupero Palla per D La pattenzione Può raddoppiare Lipsic Ha sprecato un sacco di occasioni Durante la partita E ne spreca un'altra Andiamo su Ultima opportunità Jens Kastrop Shipley Di ritorno da Kastrop Verticalizza improvvisamente Ma sbaglia Allora signori Finisce così Ipswich 1 Eh però Arbitro Dicevamo Ipswich 1 Shrewsbury 0 Sconfitta che purtroppo Arriva in un momento Poco opportuno Ma signori Possiamo finalmente Festeggiare Calendario Schippa Fino al primo Di gennaio Del 2028 Nel frattempo Pareggia con l'Al City Gran partita Nel frattempo 3 a 3 Con l'Al City E a seguire 1 a 1 Col Middlesbrough Bella merda Ma signori Primo gennaio È il momento Godi popolo Oh Ale Festi e Bosele Nuovo nostro giocatore Addio Danfulon Non ne potevo più Bravo e Bosele Bravo e Bosele Allora Chi mi conviene Mettere a sinistra Castrop Oppure Bosele Direi Castrop Che ha 5-5 Il numero di maglia Glielo sistemo Dopo raga Però intanto La formazione Con cui noi Continueremo La nostra carriera Domani Per finire La stagione Numero 3 Sarà la seguente Ma che bellino Festi e Bosele Là Ci sta Ci sta Bella squadra Alex Matos Top acquisto Sono contento Di averlo preso Bloxam Come sempre Top attaccante Dai Non c'è male Neanch'io Mario Sinceramente Neanch'io Più che altro Dovei provare senza Non ho ancora Fatto un confronto Con senza E quant'altro Ah ma io c'ho anche Del budget adesso Allora Possiamo provare Qualcuno in scadenza Tipo che ne so Jed Spence Non posso Mass and Go Non posso Va bene Ritiro tutto Grazie Aurelio potrei Not very interested Thanks Comunque Giusto per capire Classifica in campionato Come siamo messi Sesti con 41 E quindi teoricamente Ancora in lotta Playoff Sì vabbè Allora Middlesbrough E Leeds Stanno volando Perché sono A più 10 Da noi Però Il Luton Il Coventry Il Norwich Il Burnley Lo Swansea L'Epswich Il Cardiff L'Hall City Se vogliamo anche il Preston Siamo tipo 9 squadre A giocarci 4 slot Ai playoff Bello Il rinnova A saving Il rinnovo A saving Ah Toby Grazie per aver rinnovato C'è qualcun altro Scazzato del contratto No Tutti felici In realtà Il cazzo Aglina Vabbè 14 Sognate di coglione 7 e mezzo Vabbè Ah Anche Peters E Peters Ne ha pienamente Ragione Di lamentarsi Bene Tutti contenti Del contratto Incredibilmente Strano Ciao Buonasera Signori Io Più che soddisfatto Più che contento Di come sta andando L'annata Fulon Ha lasciato la squadra Vado a farvi Un segone a due mani Buonanotte Belli Ovviamente Non finisco così La live Vi saluto In maniera Umana Grazie per la compagnia Ci rivedremo Per appunto Domani Per finire Questa stagione Si spera Anche perché Le fake up Ve lo dico Voglio Voglio ignorarla Brutalmente Manderò in campo Gli scarpari E spero di perderla Ah Statistiche di squadra Non ve lo fate vedere Vabbè Ve le dico al volo Ve le narro Permesso che Fulon Non so cosa Avesse combinato Bloxham 17-2 Matos 9-7 Castorp 5-4 Mendy 3-3 Piotrowski 2-1 E poi Nuama Castelda In 2-4 Loro male Suleymanov 7 presenze 2 gol Eh Insomma Poi Wolfenden Grilic Arp E Shipley Un gol A testa Nurse Ha fatto 2 assist Idou Ha fatto 2 assist 4 1 Piotrowski 3 Mendy Vabbè Ci siamo Mali trequartisti Quest'anno Mali trequartisti Va bene Signori Grazie per la compagnia Ci vediamo domani A partire dalle 8 Per finire Stasagione numero 3 Fate i bravi E niente Io vado a lavorare Peace Peace